tanto è veloce la sigla ragazzi le sue ombre tutte le sue forme tutte le sue glorie a le sue storie tutte quelle svolte me ne ha reso miratore 75 sfumature di aranzone sul canale dei big three trovi queste cose qui tipo la classifica all time dei peak dei top player tutte le strade che si incrociano che creano storie che non ci si crede raccontate bene approfondimenti sulle squadre del momento ed analisi statistiche avanzate consigli di Lettura per sotto l'ombrellone Per appassionati e le maratone di Natale Poi state pronti ad ascoltare Che il prate è pronto ad attaccare Il ferro come Zion Primo quintetto or style Grupetto di Toscani più rapper del lago Un altro aspetto che rispetto parecchio Del canale l'onestà intellettuale Non serve pubblicare per esaltare Ogni tiro di Fontecchio per farsi guardare Una naturale avversione per il clickbaiting Se rompi il cazzo in chat ti schippa come l'app di dating Amazing Insiste il freddo ti banna a sei mesi Ne fa fuori 13 in 30 secondi come 3 Si me credi e nelle live notturne del Torre le vedi Le bestemmie che si stappano e anche tu le bevi E apri un god debate che non sta in piedi Se era meglio le NBA di oggi o quella di ieri Big 3, Big 3 Metti un follo ai Big 3 Metti un like ai Big 3 E chiudiamola qui Big 3, Big 3 Metti un follo ai Big 3 Metti un like ai Big 3 Come mi scherzo di like alla live Scusa Trip Buonasera 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 a tutti Amici di Trip Buonasera a tutti amici Della regular season NBA Amici del Trip Amici del Trip Avevo già detto amici del Trip No, del Trip Ah, sì, sì Buonasera Buonasera a tutti amici del torneo Enzi Che è appena finito Buonasera a tutti A quella roba immonda Che è la WNBA Agli amici Di quella roba immonda Che è la WNBA Che fa veramente cagare ragazzi Su, diciamocelo Buonasera a tutti amici del Basket Tastalisti Dice Buonasera a tutti amici Dei Big 3 Amici di Eubanks Buonasera E amici di Petrucci Un saluto Petrucci ancora probabilmente In un letto d'ospedale Forza Gianni Siamo in te Sempre, sempre Questa live è iniziata subito Benissimo Tore Tra l'altro devo dire Io ho queste cuffie ignobili Che credo Sono veramente cagate Credo che me le toglierò Ma perché No, a parte le ultime live Da quando si è ricominciato L'ho fatta senza cuffie E' vero Non avevi le cuffie Perché quelle nere Le ho perse Non so dove cazzo Siano finite Cioè quelle nere Erano come queste Però Meno vistose Di questa merda Cosmica Da telefono Con il microfono Del cazzo qui Che Questo cortissimo Cioè una roba Veramente schifosa Buonasera mole Buonasera Giacomo Brogi Grande Giacomo Che ti chiede se sei al bagno Sì sì Ormai Ormai è Una roba così È una gag Che si fa Doviamo parlare fino ad ora Con Giacomo Candyman Nel gruppo Telegram Dei Big Trig Chi non c'è È un infame E non entrerà Perché non è chiuso Solamente i migliori Ci sono dentro Quindi sono cari Questi ragazzi Stanno vogliendo capire Cosa sta succedendo Devono pagare mille euro Esatto Facciamo la verità Esatto È così che funziona Su Telegram Tra dove si è trovato Un gruppo Cioè non so perché Ma sono stati inseriti Un gruppo Telegram Dove vendono le banconote Finte Ma è bellissimo Sta roba Sì No è bello però Perché io non capivo Cos'era Perché ce l'ha scritto Ciao Avrai cito la postale Buonasera No io sono dentro Il gruppo ma Nel senso Non è che ho comprato Le banconote Però mi faceva ridere Perché all'inizio Non mi spiegavo Dice Per 100 euro Ti mando 250 euro Di banconote Che cazzo è Un po' scoperto Che erano finte Ma bellissima Se la gente le compra C'è un sacco di banconote Finte al giro Cioè si rischia di prenderlo Nel culo A me di sicuro me le danno Ma ti fai Incredibile Bellissimo Il mondo di telegram È pazzesco Io ora sono vecchio Ci arrivo da ultimo Però eroina Banconote false Armi Insomma c'è di tutto Bello No 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 È incredibile Sì quelle Quelle mi sono successe Giacomo Quelle sì Quelle sì Che mi offrono un lavoro Signorine che offrono Un lavoro No no ma Un lavoro di bocca No 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 Non in quel senso Di culo La vecchia pipa No nemmeno Nemmeno quello Purtroppo Nemmeno quello Sì quelle sono bellissime Quelle sono veramente Molto belle Comunque salutiamo Anche Piero Pelù Perché ho letto Non so se hai visto No Ha detto Ritorna Perché è andato in depressione Perché ha visto L'aveva perso l'utile Cioè non la cufera Insomma c'era rotto il timpano E cazzo c'era Ah aveva sì la cufera Poi c'era rotto il timpano Ha detto Ora è stato in grande depressione Non lo sapevo Povero Piero Non lo sapeva nessuno In realtà No Ha detto È in grande ritorno È pronto per Deliziarci Con un nuovo progetto Grande Piero Te lo immagini Piero depresso Io non mi riesco a immaginarlo Mi ha messo una tristezza A sta roba Dove senti Enzo Brogi? Eh ma anche Enzo Povero Enzo Cioè Ha altre ragioni Di essere depresso Anche voi poveracce Da diverso tempo Bene E tanto non lo risento Bene E io comunque Ho fatto una copertina Come dire Abbastanza esplicativa Di quello che può essere Di quello che è Il mio pensiero E di quello anche Che io andavo dicendo Nel Che ancora ovviamente Non è certezza Però di quello Andavo dicendo Nel gruppo Telegram Cioè Che i Lakers Sesti Col cazzo Che arrivavano Eh vabbè Però va detto anche Che c'è stato un crocevia Importante Io nel gruppo Telegram L'ho premesso Ho detto Se i Lakers Vincono contro Minnesota Rischiano di arrivare Sesti La partita con Minnesota È stata una sfiga Anche allucinante Dai Cioè Lebron Che sta male Anthony Davis Accecato È una partita Che con Anthony Davis Forse Te la giocavi Ancora di più Fino nel fondo Magari Lo vedi Che tra l'altro È una partita Che è sparita Nel secondo quarto Quando lui è uscito No ci mancherebbe Però nel senso È chiaro che quello È il crocevia Ma neanche più di tanto Che cazzo fa Quell'immondizia ambulante Con le gambe Che è Franz È andato live Su qui Eh sì Perché sicuramente Farà La spiegazione Me lo immaginavo La spiegazione di cose Del podcast Di Lebron Ancora Tutte le puntate Non immaginavo Come andesse in live Che maledetto Che lo scofiguro Che lo scofiguro Eh su Twitch Alla fine Due piattaforme No no Era per creare Un po' di dissing Perché ci fotte Di spettatori No ma che Era semplicemente Per informare Se siete delle banderuole Delle puttane Sì infatti Se vi garba la merda Non è certo colpa mia Se siete delle sordi De froy Che cazzo si deve fare Infatti Non vi possiamo pagare Tutti i gusti Sono gusti Dissing incredibili Di basket Esattamente Pandino 4x4 Tra l'altro vedete La tenuta Della connessione Del freddo Grazie al nostro Fratello Elon Musk Elon Musk Il Com'è che si chiama Il sovranista Elon Musk Il king È un sovranista Non era con Salvini Alla conferenza I sovranisti Non ha partecipato Sì Sì Sono scambiati Amorevoli bacetti Su twitter Il sovranista Elon Musk È un po' tutto C'è il figlio Fatto con Surrogato Lì insomma Ma poi i nomi XY Nei figlioli Si chiamano Un uomo incredibile Comunque con la connessione Di Elon Musk Facciamo gli sponsor Magari quello scemo Di Elon Musk È talmente matto Sì Certo Certo Ce lo vedo SpaceX Facci Quanto viaggia SpaceX 300 mega Dio boi C'è la roba Sì Più o meno Sui 300 250 Che insomma Rispetto alla merda Che ero prima Non è una gigabit Ovviamente Però Comunque Ci faccio Tutto ciò che serve Beh Ci fai anche di più Nel senso 300 mega Sì No No Vabbè Però sai Ora poi arrivano le fighette di Milano Dice Io ho due giga di connessione E vabbè Capito Scusami Rispondo subito al mio amico Pandino Ti dico Io non sapevo la storia di Gio bevi l'acqua O meglio Non la sapevo così approfondita Però Sendo sentito È il presunto Zodiac Che secondo una teoria Che è molto interessante Potrebbe essere stato anche Il mostro di Firenze È molto credibile Cioè ho sentito quel podcast Cioè Ma è interessante Cioè io ci voglio credere Un po' come agli alieni Crediamoci È bellina Come storia Che Zodiac Poi fosse a Firenze Abbia fatto Anche qui Il panico Cioè Anch'io Anch'io Sapevo Cicci il mostro di Scandiccio Che Osvaldo Che Osvaldo bevi l'acqua Era il mostro di Firenze Ma Osvaldo Che lo chiamai alla Fiorentina Lui No Osvaldo bevi l'acqua Osvaldo bevi l'acqua Cerca chi è Non so Oppure il mostro di Firenze Sapevo fosse No vabbè Non lo dico Perché Cicci Vengo Cicci il mostro di Scandiccio No vengo querellato Era querellato Che in realtà Era un attimo Sotto le pendici Di un noto vulcano Però veniva da là Il mostro di Firenze Anche Zodiac E anche uno degli attentatori Dell'11 settembre Che è riuscito A paracadutarsi A non morire Tra l'altro Un po' tutto lui Un po' tutto lui Anche quello Che ha sparato a Kennedy È sempre la stessa persona Quindi tipo Queste sono cose Dovreste chiedere A minatore interiore Visto che Kennedy Mi ha fatto dire Che il minatore interiore Viaggia anche Nei live twitch Commentando Nella politica Trovatelo Chiedetegli a lui Queste robe E vi racconta di tutto No Non Matteo Renzi No No Uno viene da Le pendici Di un noto Vulcano Attivo Vedi Invece Chi fra di voi Non è una Una sordida troia Oltre agli altri 47 E non un mangio merda Anche E non un mangio merda E non sei un coprofago Bravissimo Esatto Comunque Tore Tornando al discorso Di Io ve lo direi Cioè I Lakers Era impossibile Arrivarsi Lo svestitore Non c'è proprio Nessuna possibilità Nel mondo Era impossibile Ma se avessero battuto Minnesota Avevano la matematica Con una possibilità Concreta di farlo Secondo me Poi La sconfitta Minnesota La malattia Ma ce ne avevano due davanti Ce ne avevano due Non è che Il problema Il problema Dei Lakers No sono d'accordo Però se vedevi calendari Loro non ho detto Che lo fanno Ho detto C'è una chance concreta Secondo me Perché la squadra Era in una buona In una buona Direzione Però hai detto Anche altre cose Ho detto anche Che si vince l'Ovest Figurati No ma nel senso Dopo Dopo la trasferta Nell'ultimo periodo Ero abbastanza esaltato Poi va detto La gara a Minnesota Comunque è stata sfigata Perché Cioè Te devi pensare A uno Come Anthony Davis Che ha fatto La stagione della vita Perché ha giocato Quasi tutte le partite In grande forma O il cazzo che vuoi Poi arriva in fondo Gli mettono un dito Nell'occhio Contro Golden State La gara prima Di quella di stanotte E perde E poi glielo rimettano Infatti Sentivo Il podcast Lakers Speaker Corner Degli amici di Lake Show Italia Dicevano Ma facciamo giocare Con gli occhiali Come Jabari Cazzo c'è scusa A questo punto C'è chiunque Cioè se fai il play-in Come dicevano loro Contro i Warriors La prima cosa Che fa Draymond Green Infila un dito nell'occhio Ma garantito Garantito Ammesso che gioca Però questo è sfigato Nel senso Due dita nell'occhio Nel giro di due settimane Poi stanotte Dice al Covid Io non so se è vero o meno Però è riuscito a prendere pure il Covid Oppure si è passato Il virus intestinale Con il suo amicone Lebron Comunque fatto sta Che il problema Non sono i Lakers I Lakers hanno Cioè da Da gennaio Stanno tenendo un record assurdo Pazzesco È la qualità dell'Ovest Perché Una squadra che vince Il 68-70% Da gennaio A prima Di queste ultime due sconfitte Non si è mai mossa Dalla nona posizione E finirà decima Perché comunque I Warriors Sono in traiettoria Cioè i Warriors Hanno da recuperare una gara E sono sotto di mezza partita Stanotte o domani Non so Anni Blazers Cioè quando State Arriva nona I Lakers arrivano decimi Anche perché i Lakers Secondo me Contro Memphis Non fanno giocare Sicuramente Lebron E non so Anthony Davis E poi valutano Se falli giocare Contro i Pelicans O meno Se il rischio è concreto Di arrivare decimi Li fanno riposare pure Anche nella ultima A sto punto qua Quindi possiamo dire Un'altra stagione Assolutamente fallimentare Per i Lakers Dopo le loro Prospettive da titolo Il loro Però secondo me Ci sono 800.000 800.000 attenuanti Cioè i Lakers L'abbiamo visti Anzitutto Stagione fallimentare Il cazzo Perché abbiamo un titolo Un titolo Scusa Ma ero pure Dimenticato Di quella roba Però non ci si deve Dimenticare ragazzi E come diceva Mourinho Che ne so Milwaukee Se non vince Il titolo Zero titoli Phoenix Se non vince L'Aneo Zero titoli Un titolo Il torneo delle noccioline Dai Ha vinto Ha vinto Un titolo Innanzitutto Se vogliamo vedere È come vincere lo Star Game Il peso Se non vogliamo Oggi Tipo tra dieci anni Sarà importante E quindi ricorderai La stagione di un titolo Che sa Cioè A parte ora Le battute Io ci credo Un titolo E una notte Ho goduto Nel senso Due notti Tre Contro Phoenix Mere soddisfazioni Mere Cioè Nesti Dopo di meno Vedi delle partite Combattute Le vinci Da tifosi Contento No però Comunque io sui Lakers Ti dico la verità Secondo me ci sono Delle grosse attenuanti Il poco Perché gioca Cinque minuti Che si è visto Di Vincent Ti fa capire Che se ci fosse stato Ti avrebbe aiutato Tanto nella regular season Il poco Che si è visto Di Vanderbilt Ancora non è tornato Idem Perché playoff No ma in regular season Ti dava una mano Anche nella gara di stanotte Se te ci pensi Cioè i Lakers Senza Anthony Davis Sono costretti A far giocare Ma questo vale anche Contro Minesoda Quasi tutta la partita A Jackson Ace Ha fatto in plan Quell'idiota Ma non imbecille Ma non parliamo dell'idiota Perché lui è un mentecatto Ma si sapeva Però dico Christian Wood Siamo d'accordo Che è sostanzialmente Un merdone Sì Però se ci fosse stato A disposizione Contro Minnesota Non eri costretto A tenere Ace In campo così tanto Che poi non ha giocato male Però Jackson Ace È il classico giocatore Ti fa cinque minuti Poi si deve fermare Poi te ne fanno altri cinque Non può stare in campo Continuativamente Non è Non è in grado E queste sono sfighe però Perché comunque Le assenze Ce l'hanno avute E tutto sommato Se vai a vedere Com'è la classifica Ovest Bastava aver vinto Quattro cinque partite in più Per essere più sereni Quindi E ci sta davvero Che rispetto alle prospettive L'assenza di Vincent Abbia pesato Perché magari Sono meno spompati I playoff I Lakers Fanno la stessa run Dell'anno scorso In potenza Perché Ovest È tutta una faccenda Di incroci E difende Dalle volte I Bulo e Teali Quindi Come ci sono arrivati L'anno scorso A essere sweepati Alle conference final Ci potevano arrivare Quest'anno Questa squadra qua Però Ci sta Però Comunque Rimane Secondo me Un po' Lo stesso discorso Si può fare Per Golden State Nel senso che Sono squadre Che Ora Io non so Perché qualcuno Idea Del credito Per arrivare Fino in fondo A entrambe Però Onestamente Squadre Che Ora I Lakers Forse di più Comunque Hanno fatto Qualche filotto Hanno dato un po' Di continuità Però Comunque Sono squadre Che non hanno mai Avuto Una Una base Solida Non hanno Secondo me Quelle certezze Che poi Nei momenti difficili Ai playoff Deve avere Per A proprio livello Anche A proprio anche A livello Basico Di gioco Deve avere Per poter vincere E sono due squadre Che comunque A livello anche Il proprio strutturale Golden State Per una questione Secondo me Di centimetri Quindi di stazza Oltre tutto il resto E i Lakers Perché hanno Dei difensori Perimetrali Ignobili E comunque Russell Che come Diciamo Portatore di palla Principale Playoff Per me è un insulto A questo sport So che a te ti piace Però Secondo me andrebbe Vabbè Si vedrà Perché i Lakers Credo che Li faranno I playoff Non lo so Cioè Se tu ne esempli Dipende da chi Incroci Però guarda I Warriors Banalmente Sono nella Nella unica Striscia positiva Che è convincente In questo momento Assurdo Però Hanno trovato Un equilibrio In fondo Se la vogliamo Vedere così Io Vabbè Perché comunque Sono rientrate dagli infortuni Ha cercato un po' Tipo Sto Jackson Davis Sì Ma è andato Da inizio anno Che Steve Kerr Va avanti Di espedienti Non ha mai trovato Un quintetto fisso Stabile Eh ma però Anche lì Io non gli do la colpa A Steve Kerr Cioè A differenza di Giustamente Poi su un punto di vista Pratt dice giustamente Kerr è bollito D'allenato di merda Però Steve Kerr Ha allenato Una situazione Del cazzo dall'inizio Perché Prima cosa Gli metti Chris Paul in squadra Glielo bordi nel culo No no Ma io dicevo proprio Che non Io dicevo proprio Che non Non tanto per colpa I Kerr Quanto poi anche Ha fatto Secondo me anche Di necessità virtù Per quanto possa Magari non essere Un Kerr Straripante E brillantissimo Cioè Quello che dicevo Anche al Pratt È che secondo me Kerr È un po' Cioè Rispecchia La situazione Della squadra Nel senso che Quando Golden State È sempre andata bene Abbiamo visto Un Kerr Pimpante Brioso Eccetera eccetera Quando la squadra Va un più male Lo vedo più spento E invece Secondo me Saranno proprio quelle Le situazioni In cui un allenatore Dovrebbe Cercare di Dare Un qualche scossone All'ambiente Secondo me Il problema È che Kerr è pimpante La squadra La squadra Gira Quando gira Draymond E quest'anno Hanno avuto Diversi problemi Con Draymond Cioè Sulla faccenda Principalmente mentale Perché secondo me Draymond ha fatto Una stagione Della madonna Poi Sento dire di tutto Sta tirando da tre Ora il momento È il 39% Prima di stanotte È il 37% Ma guarda Non pochissimi Rispetto Risolta Ricerco Ma rispetto Alla media Non pochissimi E questo comunque Cioè stanotte Quel mentecatto Di Emma Ha permesso a Green Di tirare cinque volte Praticamente Che quello ci può stare E ho capito Ma se il game plan Ha lasciato i open tutti No Quello no Infatti l'ho detto subito Però Lasciare open Green E ci sta a lasciare Open Green Però tira quasi tre volte A notte O il 39.5 In questa stagione qua Cioè io Sinceramente Un minimo di attenzione E di rispetto Gli lo porterei Secondo me Ha fatto Tre volte a notte Che rispetto Vuoi portare Ma io l'ho visto Delle partite Dramon Green Segnare le tripe pesanti Che stanno qua E secondo me Tutta Golden State È andata Dove è andato lui Perché tanto Anche di questo ultimo periodo Qua dove Golden State Azzecca Sto filotto di vittorie Il merito è di Green A partire dall'espulsione Di Orlando Con quell'altro Che piange Lì sembrava Che avesse un tumore Corco 2 Però dalla notte dopo Dramon Green Ha cambiato la difesa Da così a così E ha copiato Jackson Davis La difesa dei Warriors Ha recuperato Potenza Perché Jackson Davis Un po' di stazza Gliel'ha portata Ha recuperato Wiggins Diciamo Cioè quello Che ha portato Wiggins L'anno dell'anello Esatto Ma secondo me E quindi Il tema resta sempre lo stesso Perché poi Senti giustamente dire Ma perché non lo buttano Fuori squadra Dramon Green Dopo l'espulsione Sì perché così In questa maniera C'era Houston Al playoff Al play in Perché senza Dramon Green Questa squadra Fa cacare Fa cacare Ma perché Perché Clay Non ne puole più Perché Steph Fisicamente Non trascina Ma è chiaro Perché Wiggins Non esiste È chiaro Che Green È chiaro Che Green Soprattutto Difensivamente È fondamentale Proprio da un punto Di vista Anche Di come dirige La La fase difensiva E di Che tipo di input Diciamo Mentale E emotivo Riesce a trasmettere Alla squadra Per quello È fondamentale E lui lo fa Anche attraverso Le coglionate E le provocazioni Che poi gli si va A ditare Dicendo È una vergogna E continua a fare L'ha fatto una vita E è quello Che l'ha portata A essere Dream of Green Sì sì Ora su quello Magari ci posso avere Anche qualche dubbio Perché se no Secondo me Si ricade In quei geni Che dicevano Dopo il cazzo 8 a pool Che i Warriors Avrebbero vinto l'anello Quindi Non esageriamo Ok L'istare è un attimino Più cauto Però comunque Certo Che Green È essenziale Per il sistema Warriors E per la sua Buona riuscita Anche se poi Diciamo L'anno Dell'anello Alle Finals Non fu un Green Scintillante Però ci penso A Wiggins E soprattutto Anche il cazzo duro I Meudoka Un altro imbecille Come stanotte Però se ti ricordi Anche in quelle Finals Green Cappellò Due o tre partite Ma la gara Sei E la gara E il pivotal Mi pare E la gara cinque E la gara quattro Non ricordo Fece due partitoni E decise La serie Allora forse Allora forse Quello non mi ricordo Esattamente Però mi sembra Che Green Comunque non partì In male Nella serie Però poi Andò un attimo A defriorarsi Mi sembra Secondo me Andò all'opposto Mi pare Gara uno Fu anche Pessimo Gara due uguale Fu criticato Perché faceva Il podcast Ti ricordi E parlava E era troppo Allora forse Meglio la seconda parte Boh non mi ricordo Però mi ricordo Spanchinato Fu panchinato All'inizio Le prime due O tre partite Fu pessimo E poi dopo Secondo me Fini in sei Gara sei E gara quattro Secondo me Fece due partitoni Decisive Poi gara cinque Fu un po' Voglio ricordarmi Malissimo Però mi ricordo Una roba simile Vabbè In ogni modo Secondo me E' più decisivo Lui di Stephen Curry Oggi come oggi Per i Per i Allora se Cioè E' chiaro che E' una provazione Sì Bisogna prendere Con le molle St'affermazione Nel senso che Bisogna soppesare Chiaramente Due piani I due Pesi specifici Perché E' palese a tutti E qui spiego Per chi ci ascolta Perché se non dice Questo è un malato di mente Che Chiaramente Senza Steph Nemmeno si inizia Per il Golden State Però ti faccio un esempio In una serie Ipotesi Stephen Curry Si prende la sciolta E si è preso Lebron Su una gara singola Hai comunque Chris Paul Che secondo me Con Curry Non ci mette le mani Che comunque Su sette partite Non può essere decisivo Ma su una gara Dove può dar tutto Se c'hai pure Draymond Green Magari a livello qualitativo Sto andando in iperbole Assurda Non perdi così tanto Come penseresti O come ad esempio Perdono i Lakers Se non gioca Lebron O perdono i Bucks Se non gioca Giannis Capito che ti voglio dire Ma non questo Non è per svalutare Steph Ma è per dire Che l'importanza di Green È una vita Tra l'altro Che poi noi si dice È molto più invisibile Di quanto Si valuti E ultimamente In questa storia Della sua condotta Venha ditato Come inutile Quando inutile non è Perché senza Green Ripeto Golden State non è qui Il concetto su Golden State Appunto Mi sembra Lo espressi L'anno del titolo Per l'appunto Perché Ed è esattamente Quello che dici te Ma nel senso che Quello che dicevo io Che senza Steph Nemmeno partono Golden State Era in un senso Qualitativo Ma certo Però Effettivamente Curry Non è il sistema Dei Warriors Nel senso che Quel sistema lì I Warriors Lo possono giocare Anche senza Stephen Curry Ma non senza Dream Ma non senza Green È quello che volevo dire io Esatto Ma non senza Green Diciamo che Curry Inserito Là In quel modo di giocare lì Rende tutto Possibilmente Probabilmente Vincente Lo fa I fa avere Probabilità di vittoria Che poi tra l'altro E torna Perché siamo Un old timer Probabilmente Ora Cioè voglio dire Io non voglio dire che Stephen Curry Non vale Che non è il miglior titolo di sempre Non è un top ten Per me c'è pure Però Ha detto Il discorso è quello Draymond Green È l'ingraggio decisivo Per quel sistema Con lui Anche la squadra A bollita che sono Purtroppo per 800.000 ragioni È pericolosa Senza lui Secondo me non è pericolosa Poi va da sé Che senza Steph Hai ragione Non giochi neanche Mentre senza Thompson Abbiamo visto Che si può anche giocare E vincere Alla fine dei conti Io Secondo me Non hanno una chance Di vincere una serie Contro nessuno Però Per la forma Che hanno adesso Occhio Perché Magari rompono il cazzo A qualche dono Il titolo NBA non lo vincono Però io Lo dicevo prima Nel gruppo Telegram Ho la sensazione Per quanto siano Nettamente più forti Di tutti Che i nuggets In fondo Non ci arrivano Che secondo me Ci rientra qualcosa Quest'anno scorso Andate bene troppe cose E secondo me Jamal Murray Non me la racconta Ben giusta Non sta benissimo E senza Non lo fanno La run Non la fanno E anche l'anno scorso Senza Murray Non la facevano La run Ma questa Non è preso Secondo me Ci sono delle Supposte Essereci Le grosse sorprese Ovest Ma anche principalmente Perché Sono tutte lì Livellate No no Sono tutte lì Però Secondo me I nuggets Cioè Se te mi dici Chiaramente una favorita Ti dico È ovvio Che ti dico I nuggets Poi Se si va A buttare lì Fattori Aleatori Chiaramente Non Non te li posso Prevedere Però è quella Che mi dà più certezze Perché comunque Sono sempre quelli Ok La panchina È disdicevole Però Comunque sia Sono E questo è un dato Strano Questo è un dato Sorprendente Tore Ora ti farò Un piccolo quiz Dimmi Qual è Tore Secondo te La miglior Line up Di questa stagione A livello di Net rating Con nuggets Nuggets No 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 In generale Nuggets Ti dico Anche i nuggets Sono secondi Ti direi Boston Ma probabilmente Non sarà troppo banale Sarà Dallas No Dallas Non c'è nemmeno In classifica Dimmi Phoenix Non so Bucks Bucks Con un net rating Di più 15 E 5 Poi i nuggets Con più 13 Boston 12 Più 12 8 Clippers Con Arden Che cazzo è Men George Leonard Zubac 11 5 T Wolves 10 5 Ok Si 8 5 E Sanz 7 9 Ma è tipo Una line up Con Middleton Immagino Si 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 Con Lillard Che cazzo è Bisley Middleton Yannis E Brooke Lopez Però questa è una line up Sostanzialmente Che Ha fatto La sciccia Dei numeri In tempo Di Griffin Perché Con Doc I tre Hanno giornato insieme Tipo 6 7 partite 42 43 Quindi Lì si torna Perché hanno fatto 1286 Possessi Quella che ne ha fatti di più Porca troia Sono i nuggets Che ne hanno fatte 1797 Di possesso Però nel senso I Bucks Offensivamente Andavano bene All'inizio stagione Anche perché Bisley tirava La bestia Era tra i migliori Non so com'è Però il percentuale Inizio anno Non era partito forte Era in difesa Dove Peccavano di brutto Con Griffin Però giocavano meglio Con Griffin Credo numeri Alla mano Ce lo dì uno Che rispetto A Doc Rivers Cioè Con Doc Rivers Hanno un record Diciamo che Doc Ha forse Un attimino Non lo so Dovrei riguardare i dati Forse Migliorato un po' L'aspetto difensivo A livello di numeri Ma è una roba Che comunque Non incide Perché sono peggiorati Molto in attacco Non incide Aspetta Dico a Diego Allora Devi pagare mille euro Devi pagare mille euro Dopo paghi Però il link Del gruppo Telegram Andrebbe a essere Che cazzo di venditore sei Quando entra Poi li devi pagare Però comunque A parte le battute Mi sa Non sono sicuro Che nelle info Del canale YouTube C'è il link Al gruppo Telegram Invece mi pareva davvero modificato Però prova Prova Diego Magari mi sbaglio No Il tema è quello Perché il tema Cioè Quello che Doc Mi lantava E che tutti gli davano Anche Anche come dire Credito Era il fatto Di aver risolto I problemi Della transizione difensiva Dei Bucks Effettivamente E che nella gara Di Opono Hanno perso Contro Washington Io l'ho vista La partita lì Transizione difensiva Cioè Era tutta una transizione Per quell'altri Cioè È incredibile Cioè I Bucks Segnavano Che erano Non c'era Cioè Non saprei nemmeno Spiegarlo Capito Perché non Cioè Capito Perché non Non riuscivano Nemmeno a difendere A metà campo Cioè Non riuscivano A schierarsi Non rientravano Comunque Ora Giannis Alla fine dei conti Per come si era fatto male Stanotte Uno poteva anche No Ma io Io addirittura pensavo Ma allora Io te lo dico La prima impressione Ho visto Appena ho visto Era un crampo E secondo me È stato un crampo Ma no Pare sia un ostinamento È polpaccio No Io avevo letto affaticamento Da Stiramento Oppure Che cazzo è Comunque Problema al polpaccio Più generale Però Si stava ipotizzando Che salti il primo turno Che comunque In teoria Salti almeno L'inizio Avevo letto tipo una settimana Fuori Guardate Ti leggo Chi l'avevo L'ho qui su telegram Cioè della serie Avevo letto Se la gestirà lui Quando Sì ma è chiaro Che poi lui Secondo me Gioca prima Guarda Allora Questo è NBA News Non dovrebbe riuscire A tornare prima delle fine La regolar season A questo punto È in dubbio Anche se riuscirà A tornare in tempo Per la fine del primo turno Stiramento Trattamente la risposta Fisa dopo lo stiramento Al polpaccio Stiramento al polpaccio Sì che vabbè Poi la traduzione Sempre Questo è In italiano Penso l'abbiamo tradotto loro Io non so che dirti Però è chiaro Che secondo me Se ipotesi A Giannis Il peggior scenario È quello di arrivare Al secondo turno Lui il primo turno Comunque lo gioca Abbiamo visto Anche l'anno del titolo Cioè comunque Un mezzo mostro Recupera Vai in campo prima Di quando dovrebbe Ma con una roba del genere Secondo me una settimana Tu sei a posto Magari vorranno E lui di sicuro È il primo che vuol rischiare Figurati Però anche lì Dipende un attimino Chi gli tocca Perché I Vax Non sono messi benissimo E banalmente Gli converrebbe perdere Le prossime tre Già a partire Da stanotte E andare contro Per evitare O Philadelphia O Miami Capito Perché Perché sono cazzi A parte E Philadelphia Potrebbe anche Strappare L'ultimo posto Ma io scusate Ma io dico una cosa Ma Miami Ma Miami Ma Miami Fa cagare Qui lo dico Che giorno è 10 aprile 10 aprile Alle 22 E 29 Io dico Che i Miami Fanno cagare Ora Al playoff Ci andranno Perché comunque Al play-in Lo passano Che cazzo c'è Che c'è Atlanta Che dovrebbe rientrare Young Tra l'altro E i Bulls Che sono Un secchio di merda Però i playoff Ci vanno Per l'amor del cielo Ci andranno Secondo me I playoff Indiana E Miami Dal play-in Perché fila Secondo me Va diretta E playoff Io guarda Ti faccio questo Quesito su Miami Fatto salvo Che la pensano Come te E la pensavo Come te Anche l'anno scorso Capitano Contro Boston Pigliano una ripassata Che non ha Dell'umano Però allora Te ricordati Il roster Degli hit Dell'anno scorso E pensa Il roster Di quest'anno C'è il rock L'anno scorso Di fatto Non ho mai giocato C'è il rosir Che a me Mi fa cagare Come pochi Però Ma il playoff Rosir Secondo me Io lo penso Come te Però C'è questo Jackets Che è abbastanza Solito E poi c'è Quello il solito Infingardo Di Butler Che La regular season Cammina Fa load management Non gioca un cazzo E poi playoff Diventa il tarantolato Almeno all'inizio Come l'anno scorso E che ti devo dire Ragazzi Però se te guardi I valori a Est Queste teste di cazzo E possono arrivare In finale di conference Ottavi Allora Ottavi non arrivano Secondo me Arrivano settimi E quindi Beccherebbero Vaffanculo Nix O Orlando Perché Orlando Ragazzi Al momento Mi luochi Però mi luochi Allora Orlando Va bene Ha perso stanotte Ma se non perdeva O ieri Non mi ricordo Adesso Orlando C'ha da giocare Due partite Ho detto una cazzata I Celtics Non li beccano No no Ma guarda Che te li ritrovi In finale di conference E gli hit Anche quest'anno Purtroppo così Nonostante Ripeto Che facciano cagare Però Comunque Il livello est È abbastanza Un'immondizia Capito E ti ripeto Se i Bucks Sono furbi Le prossime due gare Che hanno con Orlando Le perdono tutte e due Poi c'è Una di mezzo Con i Thunder Ma lo sai che potrebbe Avere una bella Secondo me Una roba che alla fine Non gli va nemmeno male I 76ers Ah i 76ers Non gli va male Non gli va male Non gli va male Per un cazzo Secondo me Perché secondo me I playoff diretti Li fanno E per loro È abbastanza importante Perché almeno comunque C'è una partita In meno per Embiid Porca Che comunque Da quando è rientrato I risultati Dei Dei 76ers Sono diventati Cioè sono tornati A essere quelli Sui livelli di prima Senti il problema È che Devi perdere Indiana Indiana ha due partite C'ha Cleveland Che comunque In bagarre Cleveland Eh anche loro E poi c'ha però Atlanta Alla ultima È una gara un po' Morta Perché Atlanta Che cazzo gliene frega Vabbè Ettore Anche però Sai Anche i Bucks Con Washington O il Sun Quando hanno perso Con gli Spurs Mentre invece Fila C'ha gli Orlando Magic E poi I Brooklyn Nets Che è un'altra squadra Che era maestra Molta Tanto stanotte La mia cugina Va a vedere Nets Raptors Perché Lei non ha mai visto Una partita di basket Però a New York Mi ha scritto Mi ha detto Dice Eh Vuoi vedere una partita Dei Nets Andava a vedere E ho detto Cazzo Vediamo una partita Di merda E brutta Raptors Nets Ora Però dentro Lei gli importa Una sega I Bucks Caro Stefano Vediamo ora Come vanno Senza Giannis O poi Io non voglio sentire I discorsi Del cazzo Perché già so Che mi potrei Incazzare Quanto Una scimmia Del Bengala Non so se esiste Se ci sono Le scimmie Nel Bengala Credo di sì Però mi incazzare Tantissimo I Bucks Giocano meglio Senza Giannis E quindi Se voi dite Una cosa simile Io vi mando Caldamente A fare in culo Ma i Bucks Giocano meglio Senza Giannis Sì Certo Sono più forti Soprattutto Non sono più forti Però è chiaro Che Palla in mano All'Illard Almeno c'è un equilibrio In campo Il problema è che Ci vorrebbe anche Giannis Per giocare meglio Semplicemente Giannis Dovrebbe giocare In un altro modo Quello lo sappiamo È risaputo Però Tra questo E dire che I Bucks Sono una squadra migliore Ecco Non più In Gianni Sono migliori Senza Giannis A Dettokounmpo È una cazzata Sesqui pedale Ma anche che giocano meglio Ci mancherebbe altro Il problema è che I Bucks Per giocare bene E essere forti Dovrebbero trovare Una sintesi diversa Tra Giannis E Lillard E idealmente Lillard Dovrebbe avere la palla in mano Perché se no Un serve un cazzo Mentre a Dettokounmpo Inizia l'azione La palla in mano È una bega Per quella squadra lì Secondo me Però Tanto Con la palla in mano Ci vuole iniziare C'è poco da fare Doc Rivers Non conta una sega Lì dentro E non gliene frega Nemmeno un cazzo A me mi sembra Doc Rivers Prende solo Perché lì Non fa una sega Chi scola le sue bottine Di Glenn Grant È contento È felice È ubriaco Marcio E insomma E lo vediamo È il numero uno Perché lui veramente Ha fatto il consulente Per far arrivare Poi era lì dietro A dare consigli In testina A giocatori Su come gestire Il coaching Di Griffin Poi gli hanno detto Vieni te E lui ha fatto Vengo volentieri Sì Prendo un botto di soldi Sto qui Non me ne frega una sega Gli dico Sì Difendi la transizione Tanto non lo fa Che cazzo non è Dice poi c'è una scusa Metto un quintetto Beverly Alla peggio Si sembra abbia mosso Le acque No Tanto è una merda E si è risolto Dice sai La difesa non funziona Io più Che mettere Beverly In quintetto Che devo fare Cioè Se non ci metto Bisley Che è un altro cancro Da metastasi No E Doc Così Uno ha sbagliato un cazzo Alla fine Ti prende i quattrini E va a fanci Bravo Bravo Rivers Che tra l'altro È assurdo Già di per sé Che venga ricercato Per allenare Uno come Doc Rivers È incredibile Deve avere dei santi In paradiso Disumani È un massone Deve fare qualcosa Ai giocatori Non lo so I paghe le troie E in più lui È già È miracolato E poi va lì anche A non fare una sega Sì E magari ne esce Anche bene Perché poi va in conferenza stampa Dopo l'eliminazione Playoff E dirà Era una situazione Ingestibile Perché Giannis E Lillard Si odiavano Tanasis Ha detto Dà la colpa A qualche d'uno Come fece a tirare Sì Con Simons E va a fanculo Eh bravo Doc E comunque C'è altro argomento Di cui mi sembra Che non parli nessuno Ma di questi Dallas Mavericks Che stanno andando Veramente come Le palle di fuoco Come si dice Da noi È una squadra È una squadra Il mio Dark Horse È una squadra È una squadra Bellissima Lo spero tantissimo E lì si godrebbe Tantissimo E vabbè Non lo dico Vabbè Non lo dico Perché non lo dico Perché non lo dico Però Cioè Le scarpe Proprio Svoterei le scarpe Cioè mi vedreste Proprio Essere Smargiasso E pontificare Sull'universo Basket NBA Come Come Godzilla Su Tokyo Si può dire Una cosa Siamo allineati Che stanno Sia io che te Si tifo Dallas A questi playoff Si può dire Io tifo Dallas Anche io In modo spudorato In modo spudorato Contro tutti e tutto Veramente La partita La malavista La partita Era sabato No Domenica sera Porca puttana No domenica sera No Cioè Che cazzo Di goduria Vabbè Ho rivisto il Condensed Eh ma io Dai vivo Quando assegnavo La tripla Exum Porca puttana Ragazzi Mamma C'è un'intesa Comunque Lillard Doncic Che è quella Che io vi paventavo Nel primo video Eh Quando Fu preso Irving Ma non è che Eh come dire Ho delle Dei poteri Di chiaroveggenza Io È quello che Eh ci si doveva Aspettare Da due giocatori Del genere Soprattutto Irving Alla luce Di come Aveva giocato Con Lebron James Che comunque Ha un modo Di giocare Che per Certi versi È abbastanza Congruente A quello Di Luca Doncic Certo Porca troia Certo Porca troia Certo Ma lo sapete Che se il Texas E la Florida Diventassero stati a sé E si mettessero insieme Prendendo anche Eh facendo guerra Eh Il cazzo di terra Che c'è nel mezzo Sarebbero una Del Sarebbero La terza nazione Più ricca al mondo Solamente dietro Appunto A Stati Uniti E a Cina E la cinquantacinquesima Nazione più grande Come estensione territoriale Pensate un po' Volevo dire A Ahmed È chiaro che Voleva dire Don Cicci Irving Ha detto Don Cicci Lillard Si è imbrugliato Perché stiamo Parlando di Lillard Non deve essere precisi Siamo in live Vai a fare In culo Per favore Vai a fare Ahmed Porco di No Conque tra l'altro Sentivo un podcast Non ricordo di Ma eri parlava di basket Dove parlavano Della crescita demografica E di importanza Di Austin Austin Che tra l'altro È vicino a San Antonio Cioè spiegavano Il discorso Non ricordo Che cazzo era Facile assolutamente Era interessante Cioè il discorso Del perché UMB a San Antonio Si potrebbe dire Che sia stata una manna Ulteriore Anche per l'EMB in generale Perché essendo San Antonio Vicino a Austin Essendo Austin Una città in mega espansione Sia economica Di popolazione È perfetto Perché comunque È un centro Satellite A San Antonio Dove arriva Sto fenomeno qua Che dominerà il mondo E lo dominerà Veramente Aspetta Sì no ma anche noi Si scherza No io non scherzo mai Attento America USA Intanto Che io c'è Eccoci qua Forza Texas Eccoci qua Walker Texas Ranger Certo Sempre comunque Cazzo durissimo Walker Donald Trump Donald Trump è texano Però Sempre immaginato Non credo Però Non credo Però sarebbe bello Cioè ci starebbe bene Allora 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 Come cazzo No Puttano la Troia Un altro Trump Mentre Freddo Cerca Se vince Ma dice anche se non vince Risolve il problema Della guerra ucraina Russia In 24 ore Ha detto lui Il piano Trump Forza Trump Dai Allora Finestra No No Finestra Se noi Prendiamo Con chiunque Procreerà Anche se Fosse Non so Verrà comunque Fuori un mostro In il caso Di Kathleen Clark Verrà fuori un mostro Cestistico Prendiamo Diciamo così È un mostruo Allora Un mostruo di Yao Ming La vedete Eccola là Ecco Ecco Se prende la Louisiana Allora Se vedete Florida Se la Florida E il Texas Diciamo Anzi Mettiamoci anche La Georgia Insomma Se il Texas E poi Florida Prendono Tutto ciò Che c'è Nel mezzo Diventano Uno stato Incredibile Nonché Terza potenza Al mondo Ed è bellissimo Vedevo 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 Oggi Questo Cazzo Di reel Su Instagram Meraviglioso Comunque no A livello economico Già Texas E Florida Sarebbero La terza Nazione Al mondo Però Facciamo L'ipotesi Che Che loro Muovano Guerra Alabama Louisiana E Arkansas Perché comunque Dicevano no L'Okloma Si annette subito Se fanno Uno stato E lo stesso Lo fa La Georgia E probabilmente Anche il South Carolina Ma se c'è South Carolina Anche in North Carolina Per forza Sì sì No Tipo Corea No infatti Se stendono un pochino Troppo Però è una roba Bellissima Cioè È proprio Quante storie Sono quelle cose A me Mi fanno Completamente Usci di cervello Ah ma Non ci sarà più Però Ma era bello Penso Ci sentivano Ci sentivate Sì Non si era mutato Mi dai il reel Voglio vedere Voglio approfondirla Questa storia È una teoria Bellissima Sì No Dopo Poi farò qualche ricerca Tanti reel Sarà di sicuro Su qualche teoria Che è su internet Forse La grande guerra Per La guerra Di Come cazzo La guerra civile No Come si chiamava La guerra per l'indipendenza Del Texas Sì Per l'espansione Indipendente Guardate la madre Vendo cazzo L'avevo vista Eccolo qui Eccolo qui Sì Meraviglioso Meraviglioso Vendo cazzo largest country in the world by land area or germany in sweden but smaller than france una potenza incredibile ragazzi sì no a questo l'ho letto e infatti è la nazione in cui andare a vivere subito signori cioè quindi muoviamoci tutti austin arriva da san antonio però comunque sono lì a poca distanza sono tutti lì si va all'alamo a far serata e si spara due colpi in aria di doppietta e si gode tutti quanti fine serato dice per tornare a casa diceva fammi tirare due stioppetta che io voglio fare dai finestrino c'è un nero pam 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 ti sono a casa ti posso apprendere no spara due scoppiettari ti possono avanti pam pam andiamo scendi questo è una grande storia e quindi il texas con dallas potrebbe mi auguro tornare insomma a prendersi le luci della ribalta ok no dai dallas dallas ci piace io non so con chi potrebbe incrociarsi dallas a pari primo turno con clippers è un classico ormai è un classico dal 2020 clippers che tra l'altro stanotte cioè stanotte giocano contro phoenix e oltre a joshua primo hanno fuori leonard arden george e tutti su back game time decision westbrook game time decision poi per gli altri due sti cazzi e quindi quintetto presvisto è westbrook man coffee pj zucker pj zucker mi fa impazzire coffee mi fa morire mi fa bello cioè ti piace il positivo a me è un buon giocatore ho sì 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 mi fa mi fa veramente mi fa impazzire e no si spera che questa sera vincano i sans perdono contro contro i clippers possono chiedere baracca e burattini che tra l'altro di sé hanno preso una scoppola comunque disumana nel primo tempo sì questa è stanotte la squadra di westbrook per fargli fare una mega tripla doppia e fai aggiornare un attimo il il libro del record tra l'altro manco così parte in quintetto powell pazzesco no è però quello magari quella è una scelta una scelta tecnica tra l'altro powell già non si è mai pensato ai premi che stanno cioè powell c'è questo uomo powell c'è powell però c'è westbrook c'è anche westbrook ma westbrook secondo me è un che abbia fatto poi stavano stagione c'è tipo a livello numerico poi se stuomo vale anche ora non so che correstamente però nemmeno che in media abbia però parlavano cioè io sono il mio uomo è nasrid stagione io nasrid lo odio a me rimane simpatia però faccio un po d'asso sul cazzo secondo me anche un giocatore con intelligenza cestistica bassissima però è valido certo è un muratore un fabbro ma tira dai gioca poco gioca 24 minuti vabbè poco gioca quasi quanto vuoi imbagnare ma vediamo scusate se ci sono i ladder per il sesto uomo così si commentano un guardatore secondo me westbrook invece potrebbe dargli un o lui o powell li vedo molto bene per il sesto uomo e qui allora fox sport trova l'articolo parla malik monk anche se fortunato prima nasrid norman powell e bobby portis 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 che portis alla fine in tutto il bailame di di milioni è stata abbastanza continua comunque monk è dato betting è dato il favorito tanto non credo per il sesto uomo ci sia il minimo delle partite perché non sono non c'è non per per alcuni premi no e credo non per il sesto uomo tipo pensavo di sì credo è perché se ne parlava non penso con franzes trova io non ho indagato è però credevo fosse un premio che valesse per c'è un criterio e valesse con tutti no ci sono dei premi per cui escluso forse anche i ruchi non c'è per lui non c'è per per il sesto e forse forse ma forse i defensive non avrebbe senso comunque questa storia del limite le partite per me una cosa è fatta così ancora che una cagata però vabbè allora rubio of the year anche se il prato dice lo dovrebbe vincere olgram per il record di squadra che cazzo può dire di niente sto discorso io mai a dire che il record di squadra con no bello va bene anche no va bene secondo me una stronzata di perché comunque se l mvp conta il record di squadra dall'altra parte freddo madonna pulina ma scusa ma il la prima è la seconda la terza scelta assoluta mediamente vanno sempre in squadre perdenti ora il caso è un caso particolare perché però nel senso e che ne so chiunque c'è son kid aveva un record vincente o grant hill primi dove mi vengono in mente lo so e dipende certo però l'impatto che ha sulla squadra al netto delle vittorie conta e l'impatto che avvenbagnava sulla squadra io amo ok perfetto grazie ma ecco cioè dio buono e no no ma io sono d'accordissimo cioè ma poi secondo me c'è comunque c'è un bel c'è un grosso gap secondo me ma sì ma poi tra l'altro guarda il tema ora per dire brandon miller non esistesse ben baniamo non esistesse ovvero bene cioè sta facendo una grande stagione però il suo impatto è una squadra di merda che è una squadra di merda pari a quanto sono di merda gli spurs escluso ben baniamo è allenata in teoria poi secondo me non è allenata male san antonio per quelle sulle sue mire però è nata allo stesso modo a clifford cioè però l'impatto di miller all'interno di una partita è nettamente inferiore all'impatto di avvenbagnava sulla squadra quando è in campo ma ragazzi ma la gente la gente cambia totalmente opzione quando vede avvenbagnava vicino al pitturato io non l'ho mai vista io non l'ho mai vista ma allora io ti dico rookie of the year e ben baniamo tanto inutile stagione il defense of the year io ci metterai anche defense of the year e allora siamo d'accordo perché è già ora il difensore più impattante di tutta la lega ma anzi tra l'altro sarebbe anche i numeri delle stoppate ok 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 le stoppate non sono la difesa va bene non sono tutta la difesa ma questo ma questo puttana è praticamente doppia il secondo a stoppate ma cantoni davis mi sembra ma tra l'altro è chiaro che non si può fare paragoni del passato d'accordo però che ne so mutombo ha vinto le fancy player of the year molti anni fa il suo punto principale era la stoppata e il quanto influenzava il ferro il tiro al ferro degli avversari allora ben baniamo però oltre a fare questo allo stesso livello esce a marcare sull'esterno porca puttana esce ne lo sa fa tutto quindi non puoi non dare il difensore però era questo qui secondo me cioè il vincitore probabile è govern d'accordo e gober è chiaramente il centro decisivo di una della migliore difesa è l'nba credo o la seconda migliore non sono sicuro ma la seconda forse posto non saranno primi loro d'accordo e siamo dicendo che non è così altissima è meglio sì però sono primo e secondo credo è in questo momento defensive offensive però dico ma tra tra gomer e ven baniamo c'è la completezza difensiva su sulla totalità del campo anche l'impatto ma l'impatto 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 di ven baniamo è clamoroso influenza ogni tipo di attacco perché nessuno tira in area se c'è lui ma poi ti ripeto lui comunque può marcare cinque giocatori è a due metri e ventisei e ti va a prendere di obono una po in guarda una guardia ma poi la tiene ti tiene il primo passo e ti tiene il secondo anche partendo in isolamento ma poi soprattutto allora ti permette di fare sostanzialmente qualsiasi tipo di difesa cioè con lui una drop coverage che magari cioè con lui puoi droppare su su curry perché comunque se lui sta in drop cioè paradossalmente allunga un braccio si stende un attimo e arriva oltre la linea dei tre punti ma tra l'altro anche se fa una falcata perché con un passo è capito la competente copre mezzo campo ha completamente cambiato la geografia del del campo da basket niente anche tipo il roaming anche se se non è su il lato debole cioè questo è una quantità di spazio assurdo e tra l'altro guarda una delle grandi cavalli di battaglia e dei trattori fatto che fosse leggero certo poi mi vai a prendere quei due highlights dove c'è mbid che gli schiaccia in testa e va bene però comunque a livello stagionale non è che ha avuto sto grande impatto il fatto che fosse leggero ha dimostrato di sapere anche tenere benino rispetto alle differenze di stazza quando doveva trovarsi a marcare uno contro uno centri che andavano a sfondarlo quindi c'è secondo me infatti sto problema di stazza non anche perché allora qualche chilo lo prenderà sicuramente cioè diventerà non 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 cambierà drasticamente però qualche chiletto lo prenderà però che cazzo vuoi mette di più cioè in difesa e questo comunque amplissimi margini miglioramento dovuti appunto all'esperienza al fatto che uno comunque si raffina sempre di più io non ho veramente idea di dove possa arrivare questo giocatore a livello difensivo e te lo dico io cioè questo ma perché poi c'è anche l'altra parte poi perché interessante ma quella lascio sempre quella un pochino più sarà meno sarà meno banalmente sarà meno decisivo in attacco di quanto sarà in difesa ma sarà anche in attacco posturato è che in difesa è qualcosa di io non te la voglio tirare freddo ma questo ti vince campionati da solo tra tre anni questo ti vince campionati da solo ma davvero ma scusa ma comunque si prospettano dei grandissimi anni per il texas ragazzi esatto cioè c'è finale conference maves spurs per dieci anni di film madonna è spettacolo e attenzione a just attenzione a just attenzione a just mi fa cagare just mi fa mi fa cagare no mi stanno sul cazzo che è in quel senso lì mi stanno proprio sul cazzo stanno veramente sul cazzo giusto però guarda io giusto alla green secondo allora il tema è la green e sengun non funzionano va bene perché senza sengun è esploso green eccetera e allora chiaramente ti tieni sengun va bene ma però già pari smith che è l'unico ma hai visto ora senza sengun che l'ha schierato spesso da cinque perché è lungo eh ma non è male ma certo è lungo ma infatti non capivo anche questo io infatti non capivo comunque eh questo uso da fisso costante da quattro di con con quei compiti lì di 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 Jabari Smith perché comunque è secondo me un cinque abbastanza solido per 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 questa NBA qua eh quindi cioè smith mi sta simpatico no non mi piace e ancora tanto a crescere sì 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 green non non mi sta simpatico poi quei giocatori lì sono sempre un pochino diffidente poi non dico che sono scarsi cioè state attenti pesate le parole capitele però sono quei giocatori che non mi piacciono tanto perché quando poi me l'immagino magari in un contesto un playoff sono giocatori che magari non mi danno quelle certezze che non hanno quella hanno un po' di carenze a livello di selezione al tiro e quindi non mi non prendono le mie le mie simpatie ma guarda che tipo si vede benissimo perché nella striscia iper positiva di di lui fino a quando Justo non ha iniziato a perdere tirava al 40 per cento da tre mi entrava di tutto quando le partite poi si sono strette ed erano decisive la cazzate tutte e quattro è appunto dimostra e poi si è salta il livello probabilmente è quello l'erbo ma forse non è acerbo è un po stupido stupido ma è un po è un po ora chiaramente capitemi anche qua edwards anthony edwards che è fortissimo però anche lui non è un genio del pensiero anche lui è un giocatore che ha una qui hanno un qui cestistico abbastanza basso però però ha delle doti fisiche a dei centimetri che quell'altro non ha è esatto e quindi riesce a superire anche degli degli errori a livello diciamo di pensiero tramite il surplus che ha a livello atletico a livello fisico e quindi ok quello è un altro discorso mi può incidere anche in altri contesti un anthony edwards e l'abbiamo comunque anche visto però vedi che infatti la differenza anche anche nel ora è tutto diverso area fiba eccetera però ai mondiali ora a parte se non li hai seguiti però anthony edwards per quanto sia stato il primo la merda lo guardando però insomma lì era costretto a prendere se si ha fatto diversi errori di scelta proprio invece di cazzo con quel fisiolite vai carichi il canestro cerchi più penetrazioni possibili invece di affidarti a quel cazzo di mid range che poi lui magari da questa da questo punto di vista eppure fomentato da quelli che gli dicono che gli sembra jordan esatto però lui invece in realtà è aiutato tanto secondo me da dal rendimento di towns perché con towns cazzo gli apri un monte di spazi cosa e lui stupidamente l'anno scorso non aveva capito da subito perché inizio stagione che si lamentava che con towns e govern non aveva spazio per andare sotto il cazzo infatti quest'anno al momento è la meno comunque govern scusa comunque towns mi sembra che quest'anno gioca ancora più più esterno esatto l'ha spostato giustamente è diventato una sorta di 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 triendi che non difende towns eh di due metri e quant'è eh boh sarà sei dieci dieci no 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 dici no è così alto ma lo sai ma lo sai guardando lo star game io ti dico una cosa secondo me doncic non è tantissimo più basso di towns 2 e 13 è misurato sì ma questo è un altro grande mistero quanto davvero è alto luca doncic è grosso è veramente alto doncice lui supera secondo me abbondantemente i due metri e lì è misurato e 2 0 1 però potrebbe essere un pochino di più poi ti frega anche perché è bello grosso ci mancherebbe vorrebbe una foto con lebron ma si trova sì 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 ma ora a parte non ci sono più contro comunque ragazzi mentre il torre cerca questa questa nostra fisma tra tra di quanto è alto luca donci c'è un po di quei grandi diciamo dubbi come tipo quanto è alto che mi indurente realmente quanto davvero è alto victor uem bagnama e iscrivetevi al canale su dai forza se ancora non avete fatto perché ora cominciano i play off a breve e quindi non vi dovete perdere nessun video nel canale e mettete like ovviamente a a questa questa splendida e meravigliosa live sono alti uguale non c'è lebron appunto appunto dice abbondantemente più alto di due metri non lo so non so la misura però e ti faccio lebron secondo me sarà un 28 lebron sarà un 28 in realtà basta foto qua mi sembrerebbe che tipo sono alti uguali no secondo me donci ci sarà tipo 2 e 6 lebron quanto è misurato scusa credo 2 e 6 ma è più alto di 2 e 6 lebron sarà tipo un 2 o comunque cioè se è 2 e 6 e questo è 2 e 1 5 centimetri non ci rivedo di differenza però no ma che 2 e 3 lebron stefano che 2 e 3 lebron 2 e 6 è misurato te l'ho detto lebron è l'istato 2 e 6 ma secondo me sarà sui 2 e 8 in realtà comunque mentre si parlava di wambi e te lo chiedo c'era qualcuno chiedeva di cooper flag se l'hype di cooper flag secondo noi ma non credo forse in america forse perché è bianco e allora la grande speranza bianca magari innalza un po' l'hype in chi ricerca la grande speranza bianca ora io ho visto dei video recenti credo non so se è giocato penso il titolo nazionale delle high school effettivamente è forte è cooper flag testo però l'hype secondo me non è nemmeno lontanamente visibile certo se ti andesse che ne so a duke e ti fa un anno ricorda su maschetta allora un po si alza sicuramente o comunque si alzerà a prescindere se farà la gran stagione che farà e ci mancherebbe altro però ragazzi ben bagnama voglio dire se pensi all'hype venendo dalla francia che americani alzare un hype simile ricordatevi di doncic doncic quando arrivava dal real madrid in america era considerato non è stato neanche prima scelta barclay diceva non è buono non è buono lo diceva anche qualcuno in italia è che diceva che a me di bagli marvin bagli era meglio aveva molto più potenziale aveva molto più potenziale bagli di luca doncic ora io mi dico ora io ora io mi dico come fai come fai anche solo a pensare o sindaco bentornato finalmente e vai a fare il culo mi è beccato il momento in cui mi è salito lo zucchero al cervello dio santissimo come facevi a dire che marvin bagli terzo aveva più margini di miglioramento un ceiling più alto rispetto ora ceiling non l'avevi scritto in quella patetica storia instagram perché non penso nemmeno tu sappia la dovevi la dovevi scritto infatti mi sono mangiato le mani mi sono mangiato le mani madonna santa la mettevo ci faccio i cartelloni marvin bagli terzo più più ma non è ma non si sta parlando del biga chiaramente sto parlando di uno e non si può nominare però che è considerato uno e ne sa e questo fa capire insomma poco quanto la gente insomma avesse sottovalutato doncio è ma già un professionista e quindi non avrà così tanto margine di miglioramento affanculo vai ma quelle che sono le scarpe le hai viste delle scarpe di no non l'ho visto devo cercare si guardano ma non si vedo vittor ben bagnano attenzione e mostra beh andrea consideraci anche nicola jokic è una bella sfida è una bella sfida è una bella sfida con jokic sarà dura sarà sicuramente possiamo dire che siamo nell'epoca in cui vediamo contemporaneamente in campo i due europei più forti di sempre questo si afferma c'è anche un bagnano scusa siamo nell'epoca in dove vediamo contemporaneamente in campo i tre europei più forti di sempre buona pace di derc buona pace di saboni spadre buona pace del poero petrovic buona pace di cuocci buona pace di tutti si vedevole onestamente jokic è uno proiettato alla top 10 nba e della top 10 nba all time intendo tutte e tre sì sì ma jokic e doncic sì sai ora per jokic che può essere considerato uno dei migliori attaccanti di sempre in un gruppo molto ristretto facciamo anche tre se non due o se non uno migliori di sempre attaccanti però ai limiti della difesa e doncic uguale quindi comunque stiamo a vedere tendenzialmente forse direi che poi vabbè bisogna vedere tante cose nulla io non lo so guardare quanto dura la carriera quanto sarà lunga io per impatto di doncic per impiegare ora io che c'è più in alto gli occhi c'è per impatto rendimento secondo me escludendo sempre chamberlain russell però è top 3 all time centri a top ma anche con chamberlain russell top 5 c'è sì a voglio sì c'è me metti c'è me da c'è me da se vola joan jokic cazzo e tonille carim ho già pari già pari verrà toglie ne uno ma io che ci non lo tolgo di vestiti tolgo un hill piuttosto ma io le verei le verei rassi ma leviamo dal discorso rassi rassi perché neanche c'è mbre volendo però bisogna vedere tante cose poi per la classifica diciamo il time quanto durerà la carriera quanto sarà il suo prime quanto il post prime se non si rompe il cazzo e manda tutto a fanculo dopo aver vinto con cinque mvp comunque è una cosa che posso dire io e che penso che si d'accordo anche te che don c'è destinato a vincere almeno due o tre titoli in carriera secondo me e se non li dice non lo so uno spreco fottuto non lo so magari non è colpa sua no però non te lo so secondo me è troppo forte c'è anche gli anni storia e giannis c'è anche già non ci ripensavo però non mi veniva non me lo ricordavo state calmi dio dio santissimo di dio oppure a di massima nei denti in linea di massima io ho questa qui ti potrei dire per il beneficio del dubbio cember nel russell ma secondo me il russell boh perché rassene in attacco però per l'epoca numeri però guarda se tengo rassene chamberlain levo che ci metto l'agio secondo me o l'agio non è stato ancora più forte no io volevo io scusa se devo leva no shak lo tengo levo chamberlain no no figurato detto se devo tenere cembre nel russell sennò io levo naturalmente cembre nel russell e comunque credo che russell fosse meno forte di chamberlain sono a b metal camp non lo so chamberlain la roba potevo vederlo vista di russell io non ho visto un cazzo te lo dico in grande onestà io ho visto dei video di russell dove l'attacco era molto limitato per no ma nel senso cioè per fare quella maledetta top 10 picks cioè non è che ho visto spezzone c'è un proprio guardato roba c'è tanta roba chiaramente di russell non ho visto nulla cioè non l'ho non ho proprio guardato nulla che quindi non è che ho fatto uno studio approfondito su russell quindi non te lo so dire e vuoi sapere anche chi cazzo ha visto rasse giocare in maniera in maniera che può dire l'ho studiata analiticamente con con criterio rasse te vai a dire russell perché ha vinto 11 titoli che avrà un valore ci mancherebbe altro però è l'impatto difensivo di russell che sarà stato sicuramente un grande rim protector che cazzo di pare però era comunque un gigante un NBA di 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 fisici normali bianchetti e lo stesso vale per chamberlain la differenza però è che chamberlain in attacco oggettivamente portava dei numeri che è difficile comunque lo metto in una classifica al time più alto di sia di chamberlain che di russell ma anch'io onestamente solo che sono sembra che siano i due totemi intoccabili chamberlain russell perché non l'ha mai visto nessuno ma non me ne frega un cazzo ma non me ne frega un cazzo perché la gente parla per sentito dire perché non ha mai visto assolutamente una sega e poi i meet incrollabili a me mi stanno altamente sui coglioni se no ci rimette george michan va bene ci metti george michan che che fa conto di ci ha vinto cinque titoli un mini apoli come quelliamo pistol pitt maravich quanto era forte quanto cazzo era forte pistol pitt maravich e uno era i bigazzi comunque tore mi ha sento cinque minuti 5 minuti intanto è arrivato anche l'ottimo trip amici me pistol pitt pistol pitt fortissimo visto come palleggiava in quel video nell'argo fortissimo fortissimo l'argo all'affanculo sì comunque se fanno lo star game come dice trip usa contro resto del mondo e sarà l'ennesima cagata in realtà e non ci regalerà una sega nulla perché comunque cioè non è che se fai usa resto del mondo smettono di camminare camminano uguale i quelli che camminavano di più nella staglia di quest'anno anche se non era usa resto del mondo erano i due europei che avrebbero dovuto essere lì come dire con la mentalità europea del del dare tutto e invece c'è che il miglior centro di sempre tuttora no 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 dai che c'è boh vabbè ora si sentra una nasa e lasciamo perdere però oggettivamente boh jabbar difficile secondo me da 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 superare anche se poi discutibile nell'arco della lunga carriera è l'impatto di decisività di jabbar però anche l'impatto di decisività di o'neill si arresta dopo un triennio top dei rakers in buona sostanza cioè non è che abbia avuto avuto un pic devastante ma non lunghissimo mettiamolo in questa maniera comunque a prescindere da questo si sta parlando di jokic e secondo me jokic al netto di tutto top 5 all time già adesso c'è poi top europei top del buco del culo ste robe dei top alla lunga alla lunga spallano e poi sono discussioni che che non trovano che non trovano come dire soddisfazione in definitiva nel senso resta sempre opinabile l'unica osa che non si può opinare il goat e chiaramente le brown james insomma su questo credo che dovreste essere tutti d'accordo se no altrimenti andatevi alle bocce e ve lo dice uno che è stato che ha visto michael jordan non come voi ragazzetti detto questo a parte le cazzate eh ritorniamo dai ritorniamo a parlare di di questa bagarre perché alla fine dei conti è è una bagarre allucinante perché poi noi siamo sempre qui a parlare del play in e dei possibili incroci non si può fare un cazzo di previsione ma l'western conference in particolare ma poi anche l'ister conference perché dai play in probabilmente uscirà a Philadelphia e Miami però dipendono tanto dagli incroci e poi quindi di conseguenza a ovest secondo me la sorpresa te la fa chi arriva con uno stato di forma superiore per questo Dallas ha la sua chance e Phoenix se entra nella corsa ha la sua chance e secondo me ora che non c'è il freddo lo dico a bassa voce anche i Lakers hanno mezza chance se entrano in playoff perché se arrivi con le star in forma e trovi un accoppiamento con una squadra che ha le star non in forma io ripeto è quello che mi lascia al dubbio su Denver il fatto che Jamal Murray non stia bene sia in gestione da troppi mesi per via il problema che ha la gamba la caviglia non so esattamente e non so che rendimento può avere in post season e lui è sostanzialmente decisivo però detto questo la roba più incredibile è che a parte la bagarre in fondo a ovest c'è una bagarre in cima della madonna perché Minnesota e Denver sono appaiate e i Thunder sono dietro di una partita e stanotte è una nottatona da questo punto di vista qua perché come saprete e chiaramente non so chi di voi resta sveglio io la vedrò domani c'è proprio Minnesota Denver che è un po' la gara della verità mentre i Thunder se non va aderato che giocano contro Wemba Nama in teoria ma Wemba Nama è out dichiarato in questo momento quindi non avremo la ultima sfida tra Chet e Wemby quindi mettiamo che i Thunder vincono i Thunder recupereranno riprenderanno e pareggeranno al secondo posto la perdente tra Timberwolves e Nuggets il che poi lascia la faccenda i per mega aperta perché sappiamo Denver in linea di massima tutti i sani non ha un matchup svantaggioso con nessuno di netto d'accordo di chiunque possa incrociare al primo turno e probabilmente anche chiunque possa incrociare in conference ma questo dopo voglio chiedere al freddo che ne pensa lui però Timberwolves e Thunder hanno la possibilità di incrociare squadre già al primo turno con matchup che non li favoriscono quindi rischiano non arrivando oddio anche arrivando primi in linea di massima di beccarsi una di quelle che escono dalla bagarre e dalla bagarre in questo momento potrebbero uscire Suns, Kings, Lakers e Warriors ma non è escludibile che ci siano i Pelicans magari a vantaggio di Phoenix e vai a sapere te quindi anche questa situazione qui secondo me è molto interessante e ci renderà impossibile in buona sostanza fare preview playoff nette o fare i bracket almeno fino a quando non sappiamo il risultato del play in il che è abbastanza abbastanza raro da quando abbiamo il play in perché ovvero l'anno scorso di Obono dai play in sono usciti i Miami Heat che sono stati finalisti a Est e i Lakers che sono stati finali di conference a Ovest però ragazzi quest'anno secondo me è un attimino più difficile almeno in apparenza poi magari in realtà sono due cavalcate senza particolari problemi di Denver e Boston in entrambe le conference vaffanculo però non lo so è una tornara peggio di sempre secondo me il sindaco e tra l'altro non ha aiutato ma questo è completamente casuale gli scontri diretti previsti a calendario nell'ultimo mese ma in realtà anche negli ultimi 15 giorni perché a Ovest si sono veramente trovate a rincrociarsi tutte ma in realtà poi il fatto del tutte è dovuto dal dato che sono tutte buone nel senso alla fine della fiera i Pelicans potrebbero non fare i playoff ipotesi cioè uscissero dal sesto posto momentaneo e uscissero poi al play in con una regular season che rischia di chiudersi comunque da quasi 50 vittorie è allucinante quello che è successo e tutto sommato se pensiamo a quelli che erano i valori le distanze o quantomeno i valori espressi tra vittorie sconfitte non c'è sta grande differenza tra il valore vittorie sconfitte che dimostrano i Clippers e quello che dimostra Denver anche se secondo me in campo c'è un abisso o quello che dimostra Minnesota e quello che dimostra Phoenix in realtà sono valori secondo me abbastanza equiparabili no quindi è una bagarre molto 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 interessante vedo che avete dei dubbi su Dallas noi abbiamo detto io e Freddo siamo tifosi di Dallas in questa prossima io vi dico però che Dallas in virtù di questa mia convinzione che poi è sicuramente sbagliata come il 99,9% delle mie convinzioni cioè il fatto che se avrai le star in forma e in bolla rischi di far strada lunga a Ovest anche lunga fino in fondo Dallas ha il miglior duo offensivo della Lega e secondo me nell'ultimo mese ha anche trovato una sostenibilità difensiva differente perché quello che io leggevo soprattutto le dichiarazioni che sono state dette è che la tendenza di rendere un attimino più neutri Doncic e Irving dicendogli non c'è bisogno che vi ammazzate in difesa sul backcourt ma è necessario che voi ce li portiate dentro ce li incanalate verso laddove c'è Gafford o Lively a chiudere l'area laddove hai un Derek Jones Junior che è abbastanza versatile e lungo laddove puoi avere un PJ Washington che comunque è un corpo che fisicamente la sua lo può dire laddove hai un Kliber che difensivamente anche se non gli dai un credito di un cazzo però è un altro corpo ed è anche Arcigno se vuoi insomma è un sistema che magari alla lunga delle sette partite medie massime di una serie potresti pagare però quando è una squadra con un attacco dove a Irving e Doncic e quindi chiaro che giochi le partite per vincere facendo un punto più degli avversari non facendoli segnare di meno rispetto a te questo è scontato però se la difesa è sostenibile occhio ai Mavs perché se Doncic e Irving sono in straforma come sembrano adesso anche tutto il contorno ne va a beneficiare Dante Exum è un esempio palese ed è potrebbe essere veramente un giocatore chiave in una in una squadra del genere una run simile perché poi voi mi dite che 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 non vi convincono e sono d'accordo eh però comunque di 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 frecce all'arco ce ne hanno eh perché anche Timardo e Junior che non so in questo momento se sia rotto se gioca se se ha un caldo di rendimento onestamente però eh Timardo e Junior è un altro che ha fatto secondo me una regola season se andiamo a vedere poi nella totalità abbastanza dignitosa rispetto a quello che il suo rendimento offensivo ed è quello che lui deve dare Dallas secondo me eh ha 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 si è mossa benissimo nel mercato e considerate che P.J. Washington sostanzialmente ha da sbloccarsi forse si è sbloccato nell'overtime della gara di domenica segnando le due tripe decisive evidentemente o almeno evidentemente aspettiamo verifica però è stato eh sicuramente fondamentale e importante eh no mi interessava che lo diceva Oberon se Murray è sano e Nugget sono ingiocabili su sette partite e però se Murray è sano secondo me è è una bella determinante perché non è sano non è sano al cento per cento eh io le 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 dichiarazioni di Malone il coach di qualche mese fa qualche settimana fa dicevano che Jamal Murray convive con un problema che non che o opera o deve gestire operarlo significava perderlo per un bel po' di regular season e lui non la voleva perdere e quindi loro lo hanno gestito il problema però è che fin quando fai la regular season lo puoi gestire quando arrivi a fare una run playoff e presumibilmente una run lunga arrivi a rischiarlo e quando lo rischi rischia anche di cadere e di farsi male eh e il tema è che sono ingiocabili su sette partite tutti in forma cinque giocatori perché non hanno panchina non hanno backup e questo è problematica secondo me quindi eh è chiaro che sono la squadra più forte è chiaro che è la squadra che gioca meglio perché ha il giocatore più forte del mondo e che rende quel sistema offensivo lì è un sistema irrisolvibile dalle difese e si sta parlando di Jokic io non credo che ci siano i grandi valori di coaching lì eh credo che un allenatore normodotato quindi Noem d'accordo sia in grado di poter allenare Denver e ottenere i risultati che ottiene Malone e e il vero valore di Malone è aver creduto a Jokic e in Jokic anni fa quando era un ciccione e doveva scegliere tra lui e Nurkic i primi anni primo anno una roba simile quello è il vero valore di Malone ma non c'è un grande valore di coaching secondo me non mi convince più di tanto Torre tu Mitchell e i Celtics come lo vedresti? Malissimo i Celtics perché devono portarsi dentro Mitchell a livello di beccorte quando hanno holiday white cioè ma assolutamente eh ci vinci con Gafford e Live lì sotto non lo so a me piacciono però non saprei per me ci sono squadre che li potrebbero massacrare Boston per dire Boston è una squadra che potrebbero massacrare Dallas posso essere anche d'accordo con te però se si incrociano hanno fatto un cammino lungo e devi vedere un po' qual è lo stato emotivo e fisico di entrambe le squadre e poi vedere come va una serie però oggettivamente sì eh Gafford e Live lì è dura però dipende dai mashup che incroci in virtù di questo eh boh Clippers potrebbero essere un mashup discreto se Irving e e Doncic sono Irving e Doncic che stiamo vedendo eh anche Phoenix potrebbe essere un mashup discreto anche se Dallas con Phoenix però in realtà poi perde tanto nella difesa degli esterni che non ha perché appunto poi comunque Irving e Doncic li paghi se devono tenere forte gli esterni è un tema che che dovremo valutare e che valuteremo quando vediamo oggettivamente gli incroci però il problema di questo è che non si può neanche fare delle come dire delle anticipazioni a livello di preview perché gli incroci al momento sono tutti eh indistricabili se non Clippers Mavs che oggettivamente è una serie che credo sia non mai già scritta e decisa ehm ehm con chi concordavi perché mi mi sto un po' perso sì questo l'abbiamo già detto i Clippers sono Hawaii e PG Arden contro i Suns che saranno praticamente al complesso e poi magari vincono e quindi poi ci rimangiamo tutto però sì sembra che i Clippers l'abbiano per così dire data suo e che facciano riposo anche perché comunque eh la differenza tra loro e Dallas sono due partite eh i Clippers rischiano di perdere il vantaggio campo eventualmente ma le tre gare che restano eh quella con i Suns stanotte però può andare a giocare con Jets e Rockets che non hanno niente da chiedere alla stagione quindi i Clippers secondo me si sentono abbastanza sicuri per far riposare i giocatori più importanti nella partita di stanotte mentre Dallas Mavericks hanno da giocare contro Miami stanotte se non va derado e poi c'è Pistons e Thunder per Miami non è esattamente facile e scusatemi Miami per Dallas perché eh Thunder rischiano comunque di restare in corsa per il primo seed eh che per quanto poi tutti stiano pensando ai Thunder come squadra che sicuramente esce al primo turno perché inesperta perché limitata tutto da discutere anche lì dipende dall'incroci però la stagione dei Thunder non si può definire eh una stagione fallimentare anzi è già un successo a prescindere dal set poi escono al primo turno perché cazzo cioè che cazzo di crescita incredibile hanno fatto merito di Allgreen ma non solo certo Allgreen vuol dire tanto ma altri giocatori sono cresciuti ma J Dub che 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 potrebbe essere un most improved player se te vai a vedere la crescita che hai avuto da un punto di vista di dati e anche poi di importanza perché spesso ha chiuso le partite. Cosa? Scusa? Scusa noi in un video spazionale per i big three hanno pubblicato in Francia. Ah sì 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 l'ho vista sta roba. Cosa? Che cazzo è? È i big three dell'NBA come sottotitolo perché non uno è toscano uno è romano. Che cazzo sono? Boh non mi ricordo neanche come cazzo segnavano però ora non avevo visto che c'era stato ospite il dottore infatti questa roba la devo recuperare. Scusate fermi un attimo ma dov'è questa roba? Su YouTube? Twitch e YouTube. Ho visto che fanno live Twitch e poi quello l'hanno fatto con Francia e l'hanno ricaricata anche su YouTube. Big three, NBA? No ma non si chiamano così hanno un altro nome però poi credo sono cercando l'NBA. Ora te lo dico come si chiamano aspetta lo trovo perché lo trovo dal canale del Telegram del Francia. Eh non trovo nulla trovo solo noi. Aspetta aspetta. Eh ma fanno numeri piccoli eh. Trovo solo noi. Eh sì solo noi. Ma te lo dirà Candyman. Candyman trova tu te non lo ritrovo. Ma cazzo aspetta aspetta. e non lo trovo. Eh ce la devi trovare a te il nome Candyman. Non lo ritrovo. Su Candyman fai il tuo lavoro. Si chiamano Basket Anatomy. Eccola. Basket Anatomy. Basket Anatomy. Ma sono un po' di sponsor ragazzi. Seguite Basket Anatomy. Big three dell'NBA. Allora ricerca del vincitore del titolo NBA con NBA Revival. In due cazzo sarebbe il big three dell'NBA. Ma lo dicono in presentazione. Non so o l'ho letto o l'ho sentito perché ho visto sto video dove c'era il franzo. Ah ecco no franzo era ospito. I big three dell'NBA. Dove è scritto? Eh il loro tipo secondo video. Ah ok. Ah ci hanno avuto vedi Gigi Nobel. Ma dov'è il dottore? Eccola. Grande dottore. Puoi fare una reaction o scarico il video. Ma no dai perché. Ma poi tipo sono live di un'ora. Cioè come fa qua? Vabbè si guarda qualcosina. Quella vuoi dottore? No volevo vedere queste big three dell'NBA. Voglio almeno sentire che cazzo parlavano. Ah ok. La scarico o la mettite? Ah eccolo. Analizziamo l'NBA. Vabbè fammi vedere una cosa. Però dai mi dispiace. non le facciamo più queste robe. Che vuol dire? E chi ha detto? Perché mi ha voluto offenderli. Voglio semplicemente guardare che contenuto portavano. Ok. Quale tipo di arricchimento potrebbero portare alla mia conoscenza del mondo dell'NBA. Così. Gli do il via? Ah ok. Stavo scaricando. Ok vai vai. Allora. Oh se lo scarichi meglio eh. No è uguale. Andiamo. Dimmi se si sente. Guarda. Guarda stasera chi c'è. I big three dell'NBA eh. Siamo tornati. Il mesco e Marco di crossover il Chronicle. Siamo tutti e tre riuniti. Era fatto che non eravamo noi tre eh. Ah sì. Sì. Siamo in profilanza di me. Siamo. C'è un terzo incomodo stasera. Qual è il diga? Eh vabbè. Comunque allora. Il big è praticamente mesco. Tutto bene. Tutto bene. Bene. Ho caduto la Virtus e ti ha perso. Eh infatti. Lui. Infatti ci avevi detto. Marco c'era un microfono partita combattuta e poi dopo hanno perso di quindici. Non farò. Non farò. Non farò abbia un pronostico. Qualche deve dare vuote è il Francio. Ah addirittura. Ricordiamoci. No no no. Non ho seguito. Non ho visto poco. Non manda avanti. Per favore. Virtus era seconda. Si può vedere che lo con il dottore. Mi sto già spaccando il cazzo io. Eh. Grande dottore. Facciamo anche noi. Eccolo. Ciao dottor Ray. Eccoci. Buonasera. Buonasera. Buonasera dottore. Quanto tempo dottore. Amico mio. Fatto insieme. Come stai? Bene bene. Voi come state? Piacere anzi mesco perché la prima volta invece con lui. Piacere mio. Piacere mio. Grazie Marzellone. Insomma come ho detto sei un tifoso dei Boston Celtics eh. Quindi magari a qualche elogio oppure a qualche bordata di fischi. Però comunque. Che persona squisiva. Dottor Ray come nasce? Te sei. Ecco. Hai fondato la pagina Dan Caldente. Ho messo disfatta. E poi sei stato ispropriato. E tantissimo poi ho visto i torni. Come nasce c'è questo progetto. Allora nasce insieme a Bubba in realtà. Lui per primo ha avuto l'idea poi io dopo un pochissimo tempo mi sono unito e praticamente insieme poi abbiamo fondato il pagina e il progetto che nasceva per fare tornei. Che uomo incredibile. Sostenere l'associazione e poi fare nel caso concreto una raccolta fondi. E lì diciamo ci siamo riusciti piuttosto bene perché siamo riusciti a riqualificare una zona di Civita Castellana un campetto. E quindi siamo riusciti in qualche modo a diffondere il basket sia. E Bubba adesso vende. È un. È un. Altri sport sono quelli principali. La pallavolo, il rugby e ovviamente il calcio. E poi soprattutto eh diciamo dedicare questo campetto ai colori giallo viola, ai colori di Kobe perché. Vabbè te la mando avanti. Un attimo mi sto spaccando. Questo è una guarda perché. Io il dottore c'è proprio una persona a cui voglio bene. Cosa manda avanti se lo chiamiamo giovedì sera lo chiamiamo. Mandati po' a me. Mandati po' a me. Vabbè va bene va bene. Ma mandati po' a me. Sì sì sì. Scusi tu guarda. Tutti i dottori che vuoi. Mandi un po' avanti per vedere se questa live prende un po' di brio. Cioè la loro non la nostra. Verso la metà verso la metà. Il più forte riceverlo che direttamente eventualmente verrà solo. Il cazzo dottore. Proprio come i walkie. Quindi alla fine Holiday se non fosse andato ai Celtics sarebbe magari andato a Miami. Sarebbe andato a fila. Dottore tra l'altro gode con uno. Sarebbe andato. Non so. Con i boss. Con i Los Angeles Lakers. Quindi secondo me sarebbe poi approdato in una squadra forte. Non sarebbe rimasto certamente a Porta. O non sarebbe stato scambiato. Non so. Per esempio aiuta. Oppure a Charlotte. Quindi. Cioè di riaspettare. Passa classifica. Esatto. Certo. Quindi vediamo. Vedremo un po'. Quindi a Est. Però c'è un po' la voce del del Biga. Il Francio. Beh. L'unica squadra temibile. al momento è. Però al momento è Milwaukee. Vabbè. L'attore batto. L'attore da Porta meno. L'attore si riprende. Quella che temo però di più. Il dottore sta bufando tantissimo. Miami. Perché poi. Il dottore ha detto tutte poi. Il dottore passa. Ma Miami ha rotto il cazzo. Lo dobbiamo dire con grande chiarezza. Te la fa sudare. Cioè anche se tu passi. Come la soppa. Te la fa sudare. Ti farà ricordare che tu sei dovuto passare sopra di una soppa che suda. Certo. In un modo o nell'altro. Eh sì. Non so proprio che ne pensate. Poi no no. Vabbè. Memory dell'anno scorso. Insomma Miami addirittura passa dal play-in eh. per arrivare alle finale tutto smargiasso ma ti ricordi che la volta si fece la live che l'era che c'era il dottore per Natale e noi che c'era anche Pratma sì per Natale spettacolo ragazzi numero uno dottore è veramente incredibile incredibile guarda ti giuro su Dio gli scrivo domani per giovedì prossimo voglio il dottore tutta la vita poi ti ripeto con questa storia è tutto l'ingalluzio da Boston secondo me da tutto un secchiato ma bisognerebbe chiamare anche Piazantini si fa Miami contro Boston il dottore bello andrebbero caricati però reciprocamente creando odio così arrivano si offendano tipo una guerra tra Galli Piazantini non offendi dai no Piazantini è troppo buono vengono chiamate divisi dai voglio punzecchiare il dottore bisogna stare lì tutto il tempo a dirgli ma che è il dottore Tatum sarà il suo preferito gli infamiamo Tatum certo gli va infamato subito allora quello lo posso fare io mi prenderò io il diciamo l'onere e il peso sulle spalle di dover offendere Boston allora dichiaratamente giovedì prossimo il dottore se c'è se c'è c'è il dottore con noi se non ha da fare io non so che vita abbia il dottore desiderio più interessante o perlomeno della mia comunque torniamo a parlare di Musket come si potrebbero muovere i Lakers in estate per il post Lebron Davis come lo gestisce Lebron resta e Davis ha prolungato per gli quattro anni quindi ma tanto sui Lakers nel momento in cui Lebron si ritira firmano un altro enorme free agent magari tipo Giannis eh io Giannis ce l'ho sempre pensato io fossi il classico tipo e va a fare la puttana di Los Angeles eh Tatum alla prova del nove farà quel salto finale di un giocatore chiamato a guidare i suoi nel playoff fino alle finals lo vedremo il mezzo giocatore che ancora penso è è la chiave di tutto è il tema che vorrei affrontare con il dottore è l'annusa questio è l'annusa questio tra l'altro si diceva prima cioè non c'eri secondo te ehm Denver no a parte Denver Minnesota con chi ha il mashup sfavorevole sfavorevole e anche Denver ma Denver secondo me i mashup sfavorevoli diciamo i mashup più scricchionanti li può avere con Minnesota forse forse ma 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 perché scricchionanti con Minnesota sai i difensori l'avrebbe Minnesota o i centimetri McDaniel Siduars Gobert ma tanto e chi difendi Gobert eh no è proprio lì magari è però comunque la stazza la stazza ce n'avrebbe perché comunque è un tema anche i Lakers avevano la stazza Timbrose non è di più nel senso perché comunque devi rispondere a Porter Junior e Gordon quindi si ci vuole fra un cortalto e poi di là ti ci vuole difensore forte su cosa su Murray e c'ha Edwards non lo so non è favorevole il matchup per Minnesota in quel caso lì però diciamo che forse la squadra è un pochino di più c'ha qualche numero però vanno viste ce li devo vedere perché comunque c'hanno tantissimi non hanno dei buoni decision maker a Minnesota e i playoff contatanto hanno poca esperienza anzi l'esperienza che hanno non è buona per nulla e mi danno poca fiducia poi magari fanno bene però per metterla diciamo in un contesto paritario simile equivalente rispetto a Denver ora guarda la partita molto dura che si giocano stanotte non sarà una partita di playoff Murray è in forze e anche Gordon in realtà però è la partita per vincere per il primo seed perché sono pari secondo me qualche indicazione se ce l'hai tutti stanotte un pelino non è una serie non alleneranno da playoff invece secondo te i matchup di Timberwolves come stanno cioè con chi è secondo te che sono sfavoriti a bestia i Timberwolves tipo matchup con Dallas secondo me con Dallas soffrono dici eh secondo me si non so beh hanno sofferto con i Grizzlies uscendo appunto vabbè l'anno scorso però si eh beh non c'erano avevano Goberk che non c'era che cazzo c'era no c'era no c'era con i Lakers in play che non c'era secondo me sono Dallas andando small ma anche forse i Clippers secondo me Minnesota come struttura di squadra è una squadra abbastanza da playoff non c'è esperienza però secondo me va in difficoltà con chi va small poi non c'ho la riprova però perché loro sono molto grossi c'è c'è tanta stazza però Towns va mega in crisi cioè Towns è proprio un minus difensivo di quelli un bello porti fuori sì se ci riesci sì il game plan è quello e chi può andare small e c'ha gente che sa fare benissimo il chanting sono appunto Dallas e Phoenix e Phoenix si però Phoenix Phoenix perché Vogel è un idiota perché non prova neanche lontanamente ad andare small non ci prova mai sì perché se non gioca in New York ci fa giocare quell'idiotale di Eubanks che penso è uno dei giocatori più ignobili che ho visto in campo in tutta la stagione vabbè su Catt sindaco del mio coglioni ora volendo ci può mettere Gafford PJ Washington anche volendo Cleber Cliba Towns per quanto poi sia difficile è ostico difendere Towns però secondo me Towns è uno che dall'altra parte gliela fai pagare tantissimo Antman ci provano all'inizio soprattutto su nome Jones Junior che è lungo e ce l'ha un po' di tenuta poi le sue partite e discorsi però ce l'ho però lui Marco diceva che Denver in stagione 1-3 con i Kings e con i Thunder però sia Kings che Thunder secondo me poi in una serie playoff si tolgono di brutto i Kings sono giunto cioè manca i Kings i Kings se non c'hanno Monk ora non è che Monk sia Gesù Cristo che cammina sull'acqua però oltre a fare una grande stagione senza Monk ti ritrovi corto parecchio ora anche Hossley quel roscio come è che si chiama Herter non è che ha fatto questa gran stagione non c'hanno neanche lui mi sa non ho capito se è out for the season o se è infortunatore però poi i Kings sono corti cioè già gli togli Monk e Herter di rotazione con chi cazzo ruotano va bene Kingham con Davion è una squadra che vive tantissimo di percentuali di folate i Kings e poi c'è c'è il caso Sabonis cioè va visto Sabonis a livello playoff rendimento visto che storicamente cala poi l'anno scorso più che altro difensivamente difensivamente lo fa per questo infatti che dico un Denver un Sabonis te lo fanno pagato tantissimo te lo incula a sangue ma scherzi e i Thunder di conseguenza perché anche i Thunder non hanno stazza sotto sì ma poi i Thunder nonostante scesi ha un ottimo difensore o il Graham però poi c'hanno dei giocatori che sono monodimensionali tipo Dort che in attacco è nullo Giddy che è playoff ecco Giddy è proprio tipo secondo me nell'anti playoff esatto cioè non lo puoi tenere in campo secondo me non fai giocare mai secondo me tieni Joe tutta la vita e almeno tira da tre cioè se in putacaso ci fosse una serie o che si credo contro Dallas ma dico Dallas ma anche Lakers quindi con The Mismatch Hunter come Lebron o Donchic che sono fortissimi nel farlo e non lo puoi tenere in campo Giddy cioè te lo massacrano se vogliono fare quegli game plan lì ma non credo nemmeno ce ne sarà troppo bisogno dovessero mai mai giocare secondo me tipo uno che possa recuperare rotazione ma in regolazione non ha giocato quasi mai è l'altro Williams Gianlin Williams a me il discorso non era dispiaciuto ma perché non hanno lunghi da far giocare sotto loro cioè ammettendo che che vedi All Green secondo me la soffre molto di più in una in uno contro uno il mismatch di Stazza con un centro grosso come i Jokic ipotenticamente di quanto non lo so fra Ben Bagnama per tornare al discorso di prima O Green è un grandissimo difensore un altro c'ha degli istinti difensivi della Madonna prende un botto di spazio però è molto più leggero di Ben Bagnama secondo me è anche più basso è più corto e poi più basso è corto e conta perché quell'altro è tremendamente lungo ma quell'altro va bene è un qualcosa di mai visto i Sanz tornando ai Sanz sono una squadra che cioè ripeto se la puoi giocare con tutti se arrivano i playoff perché cioè perché sono forti cioè comunque hanno dei problemi difensivi certo sono chiari però sarebbero i favoriti se no hanno vinto hanno fatto 70 vittorie perché cazzo cioè e comunque cioè la cosa allucinante è che guardando il record di chi è nella zona play-in o comunque play-in barra play-off hanno sostanzialmente lo stesso record di Milwaukee che è seconda attualmente a Est questo fa capire quanto l'Ovest sia dannatamente competitivo ora però stavo guardando tipo le rotazioni può fare Phoenix a livello play-off va bene allora Durant Booker Bill Allen Nurkic O'Neill Gordon siamo a 7 va bene bastano bastano però Bol Bol lo rischi? no no Eubanks purtroppo gli toccherà infilarcelo eh sì e però questo è il grosso problema eh Reparto Lunghi che difensivamente è una merda con pochi uguali è un casino perché Taddeus Yank non l'hanno fatto mai giocare no poi Nurkic perché Nurkic difensivamente è veramente un è quello un cancro alle palle cioè perché anche se te ti tocca giocare con Koggi no Koggi Koggi gioca Koggi però tipo si fa è un'ala piccola tipo no ma nel senso non ti dicevo Reparto Lunghi è proprio il sindaco lui sì lui lui sono meno che gli gioca però anche Koggi è che poi sono piccoli perché anche Allen gli è indispensabile però è corto ah esce il paracarro come dice Pagliasentini di O'Neill che a me garba Royce eh sì però non lo fa giocare mai da 5 quel coglione lì di Vogel di merda porco diavolo cazzo una small con Royce cioè giochi 5 fuori larghi larghi sempre tutta la vita come non faceva giocare Davis eh cazzo di Buddha cioè una roba di genere vedi ha un match up con Minnesota e ha un porto fuori si gober Royce Neil lo devi provare da 5 dai secondo me in un contesto playoff eh se no è scemo perché altrimenti se no se lui continua ad alternare Nurkic e Juvengs e non fa strada per un cazzo anche se c'è Durante Buche poi per amore di Nurkic offensivamente è ottimo però difensivamente playoff è difficilmente sostenibile se non dobbiamo ma si parla di quarti periodi non lo puoi tenere in campo ogni finale in volata cioè il punto è quello lì però dipende dai match up perché si ritorna su questo discorso se ti trovi contro contro Denver come te la gestisci è bisogno di un corpo per per Jokic cioè anche se ci metti O'Neal ma ti ci vuole comunque il lungo il roaming che ipotetivamente potevano usare che ne so i Warriors a tempi di lune o i Lakers i loro sogni bagnati l'anno scorso e Phoenix che cazzo ci mette le mette su Jokic e poi chi aiuta Durante? Sì a parte il corpo su Jokic che comunque Jokic può anche decidere di ok facciamo segnare lui ma chiudiamo linee di passaggio eccetera eccetera poi comunque ti servono anche i corpi da spendere su Gordon e Michael Porter Jr cioè ti serve stazza anche lì ora magari nel caso di MPJ proprio altezza nel senso di e quello potrebbe fare anche Durant per contestare i vari tiri però Gordon ti serve un difensore fisico è un ti basta Booker no Booker no no non ce l'hanno no useranno dovrebbero eh appunto Kogi Bo Durant anche Neil stesso magari bisogna vedere eh la coperta ce l'hanno eh lo so eh lì a livello lunghi sì ma che di da 5 non lo metteranno mai nessuno metterà mai Kevin Durant da 5 ma poi scusa ma per schierare chi poi per schierare chi Gordon sì infatti a che ti serve che ti da 5 scusa per fare in quintetto con Bill Allen Booker perché scusa poi eh Durant che maggiore copertura ti dà eh a livello difensivo rispetto a Nurkic poi almeno Nurkic comunque eh è un buon passatore quindi lo puoi usare da quel punto di vista lì e tieni Durant cioè se devo andare small e è porca miseria capito che ti voglio dire perché devo snaturare KD perché comunque un po' lo snaturi eh io KD voglio che giochi come sa giocare e come si trova meglio forse Eric Gordon uno che ti che ti porta un valore grosso nella sua posizione cioè per farlo stare in campo in fondo devo avere per forza Durant perché che cazzo però Eric Gordon quanto tipo quanti minuti di qualità ti dai playoff Eric Gordon otto minuti dieci minuti da second unit che poi qualità cioè che cazzo te ne frega di dovelo stare in campo con altre quattro guardie dai con tre guardie più tutti i due niente devi giocare con Roy se sono il cinque se no è un diota il discorso è quel è comunque un qualche finale concetti molto corta sui lunghi ecco questi sans qui con questa configurazione sarebbe stata una squadra molto più pericolosa più che pericolosa completa qualche anno fa quando non c'erano questi big man dominanti qualche anno fa sarebbe stata più più completa come squadra ora è una squadra ecco da questo punto di vista leggermente retro è un po' di quelle scuole in stile tipo 2015 16 17 18 e la colpa è tutta di quella mentecato schifoso di Hayton capito qual è il discorso perché se Hayton fosse stato il giocatore che doveva essere difensivamente e non c'era bisogno di rompersi il cazzo adesso perché perché non essere stato costretto a prendere Nerkic perché secondo me se l'era moderna attuale è l'era dello spacing del pace mettiamo così ora il pace no ma lo spacing i sans ce l'hanno di Obono giocano potenzialmente 4 larghissimi il campo è stralarga e il problema è che sei costretto cioè ti sei preso Nerkic che è perfetto perché è l'ottimo bloccante l'ottimo passatore però poi tu lo paghi e lo stesso lo poteva fare Hayton se avesse avuto un minimo di intelligenza certo è un passatore peggiore Hayton certo è un bloccante più più molle però difensivamente puttana miseria se ci ricordiamo la ranche che fece nell'anno delle finali contro contro i Pax quell'Hayton lì in questa squadra qui è tutta un'altra cosa a livello di difesa ma purtroppo Hayton è un fottuto mollaccione del cazzo Hayton è una merda cioè noi bisogna partire da quelli io sono sceso da ultimo Hayton è uno dei più grandi schifosi che stanno giocando in NBA in questo momento fa cacare è una merda umana si esatto ma proprio a livello umano è proprio a livello umano è uno schifoso perché te lo vedi che poi hai iniziato a fare 25 e 15 di media nelle ultime 10 partite di stagione con una squadra del cazzo quando proprio aveva già smesso di giocare Portland da inizio però questo si è messo a giocare quando hanno smesso tutti quello è proprio un pezzo di merda un ladro guarda veramente Hayton quello è un rubasoldi lui ha preso il suo cazzo di contrattone e non gliene frega un cazzo non fa un culo è proprio la chiara esemplificazione di quei giocatori NBA che giocano che di vincere di ottenere risultati non gliene può fregare proprio di meno non gliene importa assolutamente un cazzo se vince o perde lui tanto il suo fottuto bonifico gli arriva e chi si è visto si è visto ed è lui che ha inculato tutto il sistema lì diciamocelo perché quel sistema lì è andato a puttane sì quando volete il supermax e il problema è che quest'anno sono stati costretti a cederlo e non avendo mercato la miglior cosa ti potevi portare dentro è Nerkic che ripeto ho fatto una stagione della madonna si va a vedere i numeri l'impatto però e te lo mette nel culo perché nelle ultime 4-5 azioni di una gara decisiva puntano tutti lui e lo prendi nel culo quindi è tutta colpa di Aston ragazzi quello è una merda umana cioè ha rovinato la scelta vincente di KD perché per me l'anno scorso quando KD è andato a Phoenix aveva fatto la scelta migliore del mondo andava per vincere è buona capito e invece per colpa di quel bastardo lì ma che poi l'anno scorso se non si rompe Chris Paul comunque voglio vedere come va perché la serie con Denver che quello era un matchup favorevole ai Suns per l'appunto era in pareggio con i Suns sopra quando si è rotto Chris Paul avevano rimontato il 2-0-2-2 erano sopra prima che Chris Paul si rompesse e malgrado quella merda schifosa di Aston che era lì esattamente che comunque è stato umiliato da Jokic perché era uno schifoso impestato che non riusciva neanche a mettere un minimo di impegno in una serie di generale era come uno schifo di essere vivente noi dicevamo magari Chris Paul lo farà diventare uomo no non ce l'ha fatta nemmeno Chris Paul no pensa te cioè neanche Chris Paul ce l'ha fatta e in quella famosa di incredibili della storia del mondo Chris Paul un uomo di una cattiveria infinita incredibile veramente e sembrava in quella gran playoff lì che alla fine anche la serie contro i Bucks la perdono perché da gara tre in poi cioè quando vanno a Milwaukee Ace non smette di giocare a pallacanestro si caga addosso aveva tenuto per tre serie e mezzo si caga addosso e Giannis l'omaggia vivo d'accordo quindi anche lì poi alla fine ha mandato a puttane un titolo in mano perché arrivano a Milwaukee sono 2 a 0 orgo 2 vabbè si sa che quando 2 a 0 in casa ancora la serie diciamo non è iniziata però comunque insomma però cazzo cioè vabbè comunque ragazzi vabbè voi comunque dovete mettere like e iscrivervi perché come diceva Candyman avete messo troppi pochi like fate veramente schifo siete degli esseri abietti luridi e schifosi almeno ed ignobili almeno quanto De Andreaton se non mettete like e se non vi iscrivete a questo dannato e disgraziatissimo canale youtube comunque siamo quasi su due ore carissimo il mio freddo che sono volate ragazzi quando si sta bene sono volate ma comunque la prossima con il dottore ti vedremo ora ora vi portiamo qualche ospite di estrema qualità magari proviamo anche a riportare lo streamer lo proviamo anche a riesumare una sera se ti risponde se ti risponde se ti dice di sì perché le 77 sono pochissimi siete ignobili vergognosi e irricevibili ma scusa sindaco allora a te non serve un cazzo da una vita essere sempre per un periodo abbiamo creato noi tra l'altro infatti sei diventato famoso grazie a noi cioè Mamoli lo chiama il sindaco per dire davvero davvero quale sia successo ma non perché in realtà perché tutti scrivono sindaco però a parte questo discorso sei vergognoso sei veramente vergognoso rompiti il cazzo allo streamer tanto si sa che tu gli scrivi tutte le cazzadine lo streamer tu che ne pensi di questa trade e scrivi lo streamer quanto ci manchi non abbiamo più la nostra dose quotidiana di informazioni su trade del cazzo inutili di cui a nessuno importa un cazzo dai ti prego torna raccontaci solamente queste cosine inutili di cui veramente me ne sbattono tutti se ne sbattono altamente i coglioni però a me interessano dai 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 streamer ti prego torna vuoi dire che non è vero non ce la fai nemmeno a rispondere è stato casuale che cazzo vuol dire è stato casuale vaffanculo vai nel frattempo si stanno facendo di vedere il ritiro della maglia di poveri gasol ma che cazzo vuol vedere ma di poveri o di mark però perché mark gasol ieri not di pao credo di pao ha descritto pao a me non si riferisca a pao de negrita e credo sia pao gasol dai freddo dai dai freddo non sai di pao gasol io sono un tifoso dei dacerts non mi ha garbato voglio dire mi ha sempre fatto un po' cagare in tutta onestà ma però io devo adesso sono atipio devo dire la verità no cazzo però a me i lakers dove bryant era il dittatore penso gli siamo stati parecchio sul cazzo non ti voglio dire che non li ho tifati perché mi garbava bryant a me però mi stava un po' sul cazzo tutto in modo in cui lui era il dittatore decideva faceva il plenipotenziario e se non vi usciamo me ne vado e mi stanno sul cazzo cioè troppo poi è vero poi c'è l'anima sua no poi scusa scusa scusatore mameli mameli ma non sei manco a scrivere ma sei proprio una capra addirittura è social talmente come dire le liri d'onnipotenza anche nell'inno anche nell'inno vuole andare ma vaffanculo vuole andare anche nell'inno intanto è uscito un nuovo singolo del minatore interiore come si chiama black swan il figlio nero eh sì non diciamo niente no comunque a me quei Lakers lì garbavano cioè Bryant dittatore super autoritario mi piaceva Gasol è forte è fortissimo gli ha fatto vincere sostanzialmente anche un anello però mi hanno fatto impazzire Gasol non so perché ma ne ha invece il fratello a me invece il fratello forse ti dirò mi è garbato più Mark perché comunque Gasol era una merda in difesa e quindi io a me comunque un lungo per me deve essere buono in difesa super a meno Mark era un po' un mazzolatore no Mark cazzo difensivamente era granitico era un mazzolatore non era Mark guarda troia Mark quindi secondo me non riusciva anche a tenere qualche scivolamento sul perimetro poi comunque fu importante anche nel titolo di Toronto tutto sommato era già in decadenza no però intendevo lì sì sì anche lì comunque qualche bellissima difesa la faccia vedere addirittura forse anche qualche difesa no qualche difesa su Curry fu tantissima roba sul perimetro magari fu un flash come Lobb quella difesa che viene fatta vedere ogni tanto su Curry quando poi è stato frullato nei Tritra Carnelov più e più volte da davvero ma davvero ma davvero ma che cazzo dici ma no ma no ma no ma no ma no ma dai ma no ma andiamo via comunque secondo me nell'ambiente di oggi Mark Gasol sta in campo poco Mark volevo dire Paul Gasol Pogasol no il Torre è un giocatore comunque offensivamente era fortissimo dai ma era fortissimo ma nell'ambiente di oggi tipo ha meno impatto scusa ho capito non ha difensivamente però ora che vede poco il campo Torre no dai è un Urkic migliore come come mano forse come dire meno meno incombrante no no non ho detto poco però secondo me poteva anche cioè poteva essere implementato la capacità di tiro da tre quindi no secondo me ci sta alla grande si avresta un ottimo giocatore anche io dai diciamo andiamogli ecco secondo me gente forse avrebbe fatto veramente fatica sono c'è su altre comunque si dai poi c'è tipo uno come Rodman ora non lo so un pochino troppo monodimensionale per gli standard di oggi forse pensa a Vanderbilt più completo di Rodman come giocatore 360 gradi e non lo puoi tenere in campo quanto starebbe in campo pistol pit questo devi chiedere il big ma a pistol pit ragazzi cioè la gente ora salta direttamente sopra i pari ruolo qui saltano sopra proprio lo saltano vedi shay che lo salta sopra d'oggi passa letteralmente sopra cioè proprio nel senso a parte quattro highlights in croce ma proprio quattro non ho mai visto una sega a me di pistol un conto una minchia cioè capito non ho mai neanche incuriosito vederlo poi bravo bei numeri però ok lo sai ma io credo che in realtà pistol pit probabilmente è famoso solo in italia in america secondo me non si vincula proprio nessuno ma pistol pit è famoso solo perché la parla due volte frottola lì tanto come come tutti come tutti una scid asprì che sembra oh scid scid che diceva buffa se no sapevi manco il cazzo era anche sta roba bold online che che è detta da tutti ma solo in italia no ma qual è la roba che si commentò in privato su sul molleggiato sì sul molleggiato era un video su le brone su Jordan su Jordan e le brone sì diceva una cazzata di codemenziale sì dice una roba disumanamente secondo me inaccettabile ma come gran parte delle cose dice in realtà diciamola tutta però la racconta benissimo bravo 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 un attore nel senso anche raccontato tante cazzate tante cose divertenti interessanti e il padre reputativo di tutti noi tutte le stesse però come anche raccontavano delle boiate date scappavano era proprio precisissimo nei suoi richiami nelle sue diciamo note nei suoi reference non era proprio ecco diciamo verità storica al cento non era barbero diciamo no io penso che se ne lo chiedi nel privato oltre a fatti tipo perché noi sappiamo come tutte quelle puntate sono state registrate ma lui si ammette serenamente proprio veloce alla come viene viene proprio veramente rapidissime nemmeno in uno studio una specie di tenda dietro diceva sì ma che ma noi si stava parlando di quello ma si stava parlando ti senti offeso ti senti toccato nel profondo sindaco pensi che noi non abbiamo stima di Federico Buffa assolutamente no è falso però è come dire quando c'è da dire un qualcosa noi la noi la diciamo è sempre stato il il nostro motto stima per un grandissimo professionista per uno racconta storie eccezionale eccellente il migliore che c'è in Italia è stato un grandissimissimissimissimissimo commentatore però a volte gli scappava un po' come dire la fantasia eh sì cioè nel senso anche questo discorso che si portava per esempio noi ora non mi ricordo esattamente cosa diceva però faceva un paragone dando scontato che Jordan fosse il goat rispetto eh ma il motivo il motivo che ci può stare infatti è che portava un motivo assolutamente non mi ricordo però era non mi ricordo no ma non non aveva niente a che fare con i basket proprio ma nemmeno lontanamente allora di che cosa cazzo stiamo discutendo l'MP e Jokic scusa Donald ah sì sì l'ho messo in evidenza ma cioè penso non ci siano dubbi rispetto a questa roba anche se se lo vincesse Doncic saremmo contenti certo noi siamo contentissimi però non c'è Stavolo vince vince Jokic dai lo so che romanzava alcuni dei suoi aneddoti sì va bene ma anche noi si sa si dà noia si indava perché si sa che con te si può scherzare non è che si vuole bene comunque il quernino pigna che usava il cospetto del tablet dei mille fogli queste leggende Fabio non ha smesso di mettere tipo le foto su Instagram di tutti i fogli e scrivi sì è vero è vero perché non le scrive più sei rotto il cazzo dici ma se devo andare in crona a un pessina poi c'è il buco nero poi c'è il buco nero ma quel cazzo mi metto a scrivere tanto l'altro non dice una minchia che ho tempo anche per cercare le pessine chiedono di fare un commento ci vuole passa sei azioni secondo me ragazzi questa è una grande azione benissimo non so se il bigazzi sarebbe non credo però con questa nessuna pressione si può andare a letto è mezzanotte spaccato non ci avete nemmeno dato mille euro mamma mia ma nemmeno più fanno le donazioni non fa niente no ma che le sai cazzo se ne frega beh tanto non si riscuoteva comunque ragazzi se vuole i soldi veri voi ci facciate donazioni da migliaia e migliaia e migliaia di euro su paypal e se bisogna iniziare a vendere i soldi finti come fanno su instagram e su telegram da questo mi dissocio completamente secondo me è una cosa da questo mi dissocio totalmente comunque ragazzi dai chiudiamo qui ci si vede giovedì con 8 euro scusate chiudiamo così questo è molto bello mi fa ancora con i fogli solo che Pessina glieli scarabocchia disegnandoci cazzi al posto di commentare ma che ma Pessina se disegna i cazzi con la stessa velocità con cui commenta un'azione cioè non ha nemmeno iniziato a fare una palla che è bella è finita la partita capito immagini Pessina che fa un disegno ma poi tranquillo e veloce a girare le pagine capito perché poi appunto mi diceva buffa lui intanto leggeva un libro scriveva e commentava contemporaneamente si grattava un coglione e ha concepito pure un par di figlioli realmente non si è accorto di niente secondo me tranquillo c'è tre figlioli con una botta sola e mentre la dava era leggere commentare intanto faceva Michael Jeffrey Jordan esatto era il momento esatto era Salt Lake City sì 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 comunque voi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto perché siete delle persone vili grette abbiette veramente superficiali che non amano le cose belle e quindi vi dovete iscrivere al canale per redimervi redimetevi iscrivendovi al canale e mettete like comunque volevamo dire a Flavio e a Federico che sono i nostri preferiti non a caso se abbiamo 20 iscritti in questo canale è perché l'abbiamo intervistato perché se no non ne abbiamo neanche quindi arrivano i soldi i soldi esatto infatti avevo detto no donazioni di questo cazzo ma solamente veri soldi su Paypal minimo importo 1000 euro quindi col cazzo che ti ringraziamo comunque è morto ubriatore ma non è mai vero la tragedia è morto ubriatore no ma non è vero ma stai controllando no sì però la verità ma non è morto l'altro giorno va bene poi si chiude sta roba qui ma è apparsa consigliata una live di quelle estive se era io te franz tipo e ci sono 20 minuti di ubriatore che doveva morire perché aveva preso il covid ma una roba che io ho detto madonna pulita ma qui non ti mani ma sono lì doveva morire qui bastardo ma tipo 20 minuti accanito mi dissocio da me stesso ci mancherebbe ha visto la falsa morte di ubriatore un professionista stimato anche con un grande uomo di sport lunga vita un viver e anche un uomo che ha portato cultura con il billionaire come cazzo presidente della repubblica e viva crazy pizza bravo bravo ciao flavio si chiama flavio ma si chiama flavio obriatore tutti i grandi uomini si chiamano flavio come flavio insigne che cazzo è che si chiama si flavio insinna 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 emilio fede no non si chiama flavio no però emilio flavio fede dicono ah ok secondo noi ok si eh si si come non c'è nessun altro si chiama flavio flavio rina eh dai l'ottimo 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 il commentatore il commentatore rina vabbè amici buonanotte a tutti emilio fede è bello non ci avevo mai pensato emilio fede se dovesse muore emilio fede bisognerebbe far uscire immediatamente tipo la maglietta emilio fede se i bigazzi si fa i soldi è una grande idea emilio fede ci denuncia eh beh si diventa famoso in questa era è cattivo è cattivo fede è arrabbiato è vervoloso e ha detto ieri sera ha visto l'intervista no con un pesce palla eh raga sempre un fede ragazzi forse e con flavio presidente della repubblica non dimenticate l'ottimo un po' Nathan Falco ma bene basta ci si vede la settimana prossima dai chiudete Ettore eh sono il tetrione del tuo aspetti aiuta si la Fagnani è il mio grandissimo feticcio è una moglie di cosa di Mentana di un pezzo di merda ma come fa a stare un rompicazzo cioè prendiamo anche Mentana anzi sono offesi tutti anche stasera ma Mentana tanto non querela dai secondo me è un peggio infame di Oboia no ma sta scherzando con quella faccia lì con quell'ottianini mamma mia ma uno si sega per fare la diretta notturna delle elezioni in Morise ma che in Abruzzo ma fa fa culo sai che cazzo mentre Corona gli scopa la Fagnani esatto esatto certo grande Corona visto lo spezzone Anna andava lì a fare il gagarone dalla Fagnani è top che uomo di classe è un uomo incredibile numero uno top 3 uomini più belli al mondo Corona lo vorrei un uomo più intelligente al mondo l'ha detto lui si l'ha detto lui di se stesso è numero uno non sa scrivere in italiano perché quando fa le storie su Instagram che scrive c'è delle cose allucinanti però è un grande sostanzialmente è uno dei uomini più potenti d'Italia è sostanzialmente un criminale sta in galera mi ha un piccolo impero del terrore in cui gioco tutto lo showbiz italiano quando fu picchiato al boschetto di Rogoredo è uno dei video più belli quando spacca l'ambulanza si fantastico è numero uno è numero uno è anche la scienade che cade in bicicletta sono libero eh vabbè quando quando perdi il dente dalla d'urzo è un numero uno grande anche lui ragazzi un grande uomo anche i politici ci vogliono gli uomini di spessore infatti non si chiama anche il governo e come si chiama Fabrizio Flavio Corona esatto vedi torna tutto torna tutto e chiudiamo chiudiamo buonanotte amici buonanotte a tutti Flavio buonanotte buonanotte Flavio notte a tutti